Aydan, l'ultimo guardiano di Sky Sogno il giorno in cui usciranno dai flutti e stringeranno negli artigli immensi i resti dell'umanità insignificante, logorata dalle guerre, il giorno in cui le terre sprofonderanno e il fondo oscuro dell'oceano salirà in superficie nel pandemone universale. La fine è vicina. Non è pericoloso, no, non lo è mai stato. Puoi farsela, poi passa tutto. Abituati all'idea di lasciarti andare. Ad ogni nuova alba quella frase riemergeva repentina ed Aydan si svegliava di soprassalto. Cosa volevano trasmettergli quelle parole così puntuali? Si ridestò, cosso da quelle sensazioni che gli arriccavano un misto di paura e stupore. La sua bocca era ancora impastata del tabacco masticato fino allo spasimo qualche ora prima, quando, come faceva sempre, seduto nella stanza dell'orologio, mentre si lasciava cullare dalla sinfonia dei flutti che frustavano senza sosta la scogliera adiacente, mentre quelli più arditi lambivano gli enormi finestroni che lo proteggevano, i suoi occhi, meravigliosamente azzurri, affondavano piano nell'oceano del sonno, contemplando l'infinita e obliqua tavola liquida posta di fronte a lui. Lasciati andare. Gli altri proseguiranno, vedi. Se ne faranno una ragione. Sarà una liberazione. Ti libererai in volo. E soddisferai la tua voglia d'infinito finalmente, con gli occhi di un'aquila reale. Sarai lontanissimo da tutto e da tutti. Qualcuno forse piangerà. Qualc'altro rimarrà in austero silenzio e stringerà i pugni. Uno o due non avranno parole e vorranno andar via. Qualcuno sarà splendidamente indifferente, pur di non sopportare di sembrare sofferente. Altri ancora si chiederanno perché. Altri diranno di sapere già perché. Molti avranno solo l'imbarazzante fretta di andarsene e voltare pagina, sentendosi un po' in colpa per aver capito tutto e non aver mai mosso un dito. Finalmente il macigno del tempo tornerà a girare ed un altro giorno perfetto e maledettamente inutile, simile a un pezzo di niente che ti ritrovi fra le tue mani, sarà finito. Ancora frastornato e quasi schiacciato da quella cantilena che si era intensamente incastrata in qualche meandro del suo essere e determinata a non andare via, decise di reagire ad essa con un impedo di positività, quasi che portasse su di sé due mondi che tentavano continuamente di cancellarsi a vicenda, ma in quel momento avrebbe lottato sino allo strenuo delle sue forze per far prevalere il richiamo alla vita. C'era un sole caldo ed amico che lo invogliò a prepararsi subito da mangiare. Terminato il frugale pasto a base di carne essiccata e pane liquido e dopo aver dato uno sguardo all'orizzonte imperturbabile, si guardò con timore le mani, srotolando delicatamente gli astrusi ed intricati drappi che le avvolgevano. Le spaccature erano sempre più marcate e profonde. Le mani erano solcate da sottilissimi e luminescenti rivoli rossi, quasi come parte estranea al suo corpo. Aidan riavvolse delicatamente le mani nella indistruttibile stoffa, dopo averle inserite nelle due profonde cateratte murarie, appositamente create da chi lo aveva preceduto in un susseguirsi di epoche terribili e indefinite, lontane ma fuoriere di una leggendaria missione che non doveva mai essere abborrita. E Aidan era l'ultimo predestinato, almeno così gli era stato tramandato. Era un quacervo di arcana energia sconosciuta anche a se stesso, quando era giunto in quel posto che avrebbe segnato la sua esistenza per sempre. Frammentava sempre con dolcezza e conforto il giorno in cui era approdato sull'isola. Era un freddo e ventoso giorno prima dell'inizio dell'autunno, ma era entusiasta di arrivare il più in fretta possibile al Neist e la nostalgia lo assaliva, sempre, puntualmente, ogni volta che gli tornava in mente la sua stessa immagine, immobile. Il 9 settembre del 9969, venuto dal cielo e ancora scosso per tutto quanto gli era piombato addosso, colto da un pianto di gioia e da un profondo senso di precarietà e vertigine, di fronte a quell'incredibile portatore di ben 480.000 candele visibili a oltre 30 miglia di distanza. Ancora ricordava con affetto lo splendore della Moon and Bay che, magnificamente presente dappertutto, lo aveva subito abbracciato con le sue puntigliose e radicali scogliere. Aiden, immerso in quei ricordi liquidi, si era sentito esausto e felice per quelle sensazioni che lo avevano inebriato da subito, fino a stordirlo. Il giorno che mi hai cambiato per sempre lo ricordo ancora. Non lo avevo immaginato così, quel 9 di settembre. Scorgo da lontano, l'idolo eterno. È una forza misteriosa e radiante. mi avvolge in una mistica aurea profumata del sacro Libano. Portami la necessaria chiarezza per distinguere il falso dal vero, l'inganno dall'onestà. Invoco il tuo aiuto per proteggermi da inganni, trappole o insidie. Ricorro alla tua infinita energia. Ogni qualvolta il mio cuore vacilla e non comprendo bene ciò che è giusto fare. Sono protetto, ora. Rivolse gli occhi al cielo e cominciò a camminare sulla lingua di arcobaleno che si srotolò soffice dalla cima del nest fino a lui. Illuminato nell'animo e possente come un urù, quel giorno camminò sulla volta dell'arcobaleno sotto fulmini che guizzarono improvvisamente verso di lui, con bagliori accecanti e tuoni che squarciavano adirati le nuvole che si muovevano paurosi e veloci quasi a fare spazio all'ingresso di qualche grandiosa e leggendaria creatura alata. Procedi spedito, Aiden, indomito messaggero delle stelle. Non temere. La prodo è vicino. Le forze multicolori dell'iride ti sorreggeranno ardenti. L'opus maius si paleserà finalmente nei tuoi occhi azzurri. E tu, solo tu, vedrai il recondito nascondiglio del triste. E così giunse il 9, 9, 9969. Capitolo II L'Idolo Eterno Non pensava di conoscere davvero il Neist, ma ne era consapevole. Nessun umano ne aveva mai sondato la sua intera struttura. Però, sin dal primo giorno in cui era arrivato, aveva imparato ad essere umile con lui, a farsi condurre dove gli era permesso. E, soprattutto, aveva appreso come far riposare le sue membra al volgere delle giornate, di quelle più faticose, di quelle in cui era spossato sia fisicamente che nello spirito. Dal giorno in cui era giunto, si era dedicato a perlustrare ogni angolo della sua nuova e labirintica di Mora, cercando di memorizzarne il più in fretta possibile i locali principali che la occupavano, quelli di servizio, quelli indefiniti, e inizieppi di arnesi inesplicabili, e posizionati in prossimità delle vetrose protuberanze verso l'infinito. Aidan aveva immagazzinato con tutte le sue forze nella sua mente la struttura del Neist, ma puntualmente ancora oggi si meravigliava di quanto incredibile era stato l'ingegno di chi lo aveva progettato. Esso appariva dall'esterno come un grandioso blocco monolitico di pietra, dipinto con una maestria aliena di un bianco accecante, che non sembrava poter essere lesionato dalle mareggiate, che a volte dolcemente lo lambivano e accarezzavano, ma che invece altre volte lo flagellavano impetuosamente, non riuscendo a punirlo per la sua colossale ed eterna immobilità. Anzi, a volte, le immense onde marine, ricche di inebriante salsedine, strabordanti di strane creature nascoste in esse e sature di salata ingordigia, nei giorni e nelle notti segnate dall'ira funesta del tempo, circondavano il Neist, formando con una simmetria spaventosamente millimetrica, ai suoi guelati, due paurosi vortici neri, ribollenti di schiuma. Dagli enormi finestroni, Aidan, all'inizio terrorizzato da funesti presagi di un'imminente caduta in quegli sconosciuti buchi neri, col passare del tempo aveva imparato a rispettare e a temere quelle bizzarrie spazio-temporali, molto frequenti in alcuni mesi dell'anno, e aveva imparato ad attengere pazientemente che tale tremenda furia cieca svanisse, poiché non era altro che il profondo spirito della natura che si manifestava in quei momenti, senza pudori o limiti. Il monolite cilindrico aveva inoltre una serie di caratteristiche strutturali quanto meno uniche, o tecnicamente impossibili da realizzare, secondo le regole della tradizionale ingegneria delle costruzioni. una serie di finestroni incassati nella nuda pietra, senza alcun tipo di giunzione, quasi che la sabbia silicea di cui erano composti avesse abbondantemente oltrepassato il fatidico punto di fusione di 1700 gradi fino a fondersi completamente con la stessa pietra. Ma ciò che più aveva da subito sballordito Aiden era che quel materiale sfidava tutte le leggi chimiche di elasticità non era certo tale da definirsi vetroso nel senso chimico del termine. E che dire poi dello stesso materiale che componeva l'astruso cilindro del diametro di circa 30 metri che raggiungeva un'altezza di quasi 60 metri sopra il livello del mare. Inutile precisare che appariva solidissimo e indistruttibile dall'esterno con fondamenta che parevano essere state conficcate nel terreno sottostante con una maestria senza uguali. Ma ciò che più aveva pagato Aiden dal suo primo giorno in cui era arrivato era stato che esso irradiava un inconfondibile calore dall'interno durante le ore del giorno che si trasformava in un palpabile tepore di notte. A tale effetto Aiden non aveva più tentato di darsi una spiegazione semmai poteva esisterne una valida o quantomeno razionale era stranezza termica davvero unica e piacevole era un perenne adattamento e simbiosi con la temperatura esterna come una sorta di gigantesca stazione barometrica autoregolante e poi un maestoso capolavoro di tecnologia aliena la stanza dell'orologio il cuore pulsante del nest cui si accedeva a mezzo di un elevatore meccanico dagli ingranaggi invisibili che si apriva al solo passaggio davanti ad esso la prima volta che Aiden vi aveva fatto accesso ne era rimasto stupefatto poiché appena richiusosi qualcosa lo aveva spinto all'insù come un'energia di spaventosa potenza e ad Aiden era schizzato il cuore in gola per la tremenda pressione che in meno di 10 secondi percorrendo circa 50 metri in verticale lo aveva condotto fin sopra la stanza dell'orologio chiamata dell'infinito marcava al suo centro esatto un gigantesco blocco rotondo di potentissime lampade disposte in maniera perfettamente allineate fino a formare 99.999 cerchi concentrici disposti in una immensa pedana mobile composta della stessa sostanza pietra del nest e Aiden ogni volta che vi accedeva aveva rinunciato a chiedersi come avessero fatto a trasportarla sin lì e soprattutto chi avesse compiuto una tale impresa ciclopica colpite sulla pietra vi erano le seguenti parole il movimento delle 480.000 lampade era scandito da un orologio astronomico di splendida fattura che ricopriva interamente una delle pareti della stanza era incastonato nella pietra era di circa 5 metri di diametro con telaio organo motore organo oscillatore in perfetta vista e dotato di una vistosa finestra sul quadrante che mostrava le fasi lunari non vi era però alcuna apparente opera o congegno meccanico che collegasse l'orologio stesso al fascio di lampade anzi era completamente fermo durante tutto il giorno appena sopraggiungeva il tramonto come aveva scoperto Aydan dal primo giorno esso riprendeva vita le gigantesche lancette si muovevano e per qualche sconosciuta legge meccanica nel giro di pochi secondi le lampade si accendevano ad una splendida luce calda sprigionando un titanico raggio di luce che si irradiava dal nest la pedana cominciava ad emettere una vibrazione che ne preannunziava la sua lenta ma inesorabile rotazione e il fascio di luce si sprigionava dal nest sguarzando il cielo e riprendendo giorno dopo giorno la sua eterna missione con una leggendaria rotazione a 360 gradi visibile fino a oltre 30 miglia di distanza l'energia termica che si sviluppava dalla mastodontica fluorescenza era inimmaginabile ma il nest non ne risentiva minimamente per qualche recondita ragione la assorbiva mentre la luce che veniva proiettata all'esterno era potentissima e stupenda in ausilio della navigazione di tutti i vascelli che avrebbero solcato il mare eterno di Sky capitolo terzo meravigliosa forza non esiste patto che non sia stato spezzato non esiste fedeltà che non sia stata tradita all'infuori di quella di un cane veramente fedele quella mattina il tempo non prometteva nulla di buono il sole era improvvisamente fuggito e catturato dalle avide nuvole che lo avevano goiato scaricando sulla terra ferma copiosi goccioloni in trisi di terra giallastra e Aidan ne aveva approfittato per uscire in mare aperto e procurarsi da mangiare sceso fino alla base del neist con l'elevatore fece un giro intorno al faro e si diresse verso un angusto anfratto riconoscibile per la presenza di una folta vegetazione selvaggia che lo ricopriva quasi interamente spostò con le mani inguantate gli arbusti di profumata lavanda e scoprì la porticina che aveva permesso il passaggio di un uomo di media statura inserì la chiave nella serratura e il varco si aprì mostrando una botola che Aidan sollevò ai suoi occhi si apriva una profonda e stretta galleria che scendeva in verticale per circa venti metri cui si accedeva per mezzo di una scala di ferro conficcata nel cunicolo terroso Aidan cominciò a scendere e come tutte le altre volte che lo aveva già fatto fu assalito da una sensazione di inquietudine che si amplificava mano a mano che scendeva la debole luce di una torcia di fuoco lo aiutava ma la sensazione di paura era debole ma presente terminata la discesa brancolò nel buio pesto appena tutito dalla fiocca luce a sua disposizione lasciandoci guidare dai simboli celtici dipinti sul terreno e tastando con le mani le pareti fredde e muschiate decorate con arcaici geroglifici che illustravano l'eterna lotta tra il bene e il male il corridoio che Aidan percorreva aveva le fattezze e le sinuocità di un serpente e sembrava interminabile lungo di esso si dipanavano una serie di stanze sulla destra e sulla sua sinistra con porte di metallo nero chiuse da pesanti lucchetti il tutto permeato da uno spettrale silenzio di tomba dalla lettura sulle pareti aveva compreso che in un tempo lontanissimo il guardiano aveva avuto il compito di imbrigliare gli immondi spiriti ribelli in quelle segrete dopo che avevano inutilmente assaltato il faro e ne erano usciti sconfitti perdendo l'immortalità gli ultimi guardiani che avevano preceduto Aidan e che avevano ricevuto l'investitura dai creatori erano sempre riusciti a terminare la loro missione relegando i loro più acerrimi nemici nelle segrete attendendone la consunzione all'esito delle battaglie più estenuanti Aidan era stato quindi il prescelto dopo la dipartita del precedente custode da quando era giunto si era preparato con dovizia e precisione nell'anima e nel corpo l'orologio avrebbe mostrato l'inizio di una nuova tremenda guerra dell'arcobaleno ma dal 9 di settembre 9.969 nulla era ancora accaduto e il guardiano aveva goduto del favore dei creatori conducendo una vita tranquilla ed appagata almeno fino a quel momento Aidan quindi attraversato il corridoio delle segrete entrò rinfrancato nella sala del trono che aveva la forma della sacra croce di Brigid con al centro un immenso trono di giunchi intrecciati in cui erano incastonate le gemme dell'infinito dalla straordinaria bellezza di una cascata verde-azzurra che si tuffa nella terra di Dagda la sala era immersa della luce ultraterrena di Imbolc e rischiarata da splendidi arazzi raffiguranti la mistica arpa suonata dalle fanciulle del clan Betand Aidan proseguì oltre e dopo averlo dato la mistica Triskele intagliata splendidamente sulla porta dell'oceano si recò nello stanzone delle armature indossò la pesante tenuta da palombaro imbracciò una fioscina ed entrò nell'acqua salata per procurarsi da mangiare si era appena immerso quando dalla superficie dell'acqua sentì dall'interno del suo scafandro dei gemiti flebili provenienti dalla superficie marina come un'invocazione di aiuto Aidan senza indugio risalì in superficie scorse nel mentre stava riemergendo dall'interno del casco da palombaro tra rigogliose bolle di schiuma l'annaspare di zampette che tentavano di combattere con l'amareggiata era un lupetto ferito che tentava di raggiungere la terra ferma fiotti sottili di sangue fuoriuscivano dall'addome dell'animale che però non voleva assegnarsi a dover morire e con tutte le sue forze si ribellava dimenandosi e tenendo alta la testa per non ingoiare acqua assalata la lotta con la forza dei marosi però appariva impari e Aidan riaffiorato proprio vicinissimo all'animale che era di peso medio ed era tutto zuppo e impaurito lo afferrò con le braccia enormi e foderate della tuta di palombaro la bestiola terrorizzata anche per l'improvvisa apparizione di un essere così strano dall'acqua vicino a lui quasi a voler ingoiarlo tutto ad un fiato da prima si dimenò ma poi dopo qualche secondo si lasciò prendere dolcemente e si abbandonò a quello che sarebbe stato il suo nuovo padrone resosi conto dell'imminente pericolo di vita del cagnolino Aidan gli serrò il musetto invocò il sostegno di Don Hug e con una repentina giravolta si rituffò negli abissi ripercorse velocissimo la via verso l'ingresso segreto del nest e lo ricondusse dentro spogliatosi del pesantissimo scafandro Aidan adagiò l'esserino sul pavimento gli occhi erano chiusi ma ancora respirava anche se affannosamente e con accessi violenti di tosse per sputare l'acqua che aveva ingoiato la prima cosa che fece fu scoprirsi le mani dai pesanti drappi che le ricoprivano sentì il dolore che pulsava tra i solchi luminescenti dei palmi le adagiò entrambe in maniera tale da coprire l'intera ferita al di sotto dell'addome e improvvisamente una luce caldissima si diffuse tutto intorno fino a irradiare l'intera stanza delle armature un lacerante urlo si sprigionò dalla bocca di Aidan l'emorragia di sangue si fermò e la ferita si richiuse sentinel era vivo capitolo quarto sentinel e quando affondiamo il viso tra le mani augurandoci di non essere mai nati i cani non si drizzano in tutta la loro altezza osservando che ce la siamo voluta e neppure si augurano che ci serva di lezione ma si avvicinano a passi felpati appoggiando la testa sulle nostre ginocchia e lui alza la testa con i suoi grandi occhi sinceri per dirti con lo sguardo ebbene ci sono sempre io lo sai andremo per il mondo insieme ti sosterremo sempre a vicenda non è vero? Aydan era contento di aver salvato Sentinel che da quel momento splendente dopo il rocambolesco salvataggio e la leggendaria imposizione delle mani divenne suo fedele servitore le sue membra come per magia si erano ingrandite e rinforzate il manto grigiorgento si era infoltito e compattato fino a divenire morbidissimo al tocco ma incredibilmente forte e brillante la muscolatura si era saldata perfettamente all'apparato scheletrico il corpo slanciato e sinuoso aveva conferito all'animale una fierezza e classe infinita con la testa scolpita che stagliava vigile sul collo muscoloso e gli occhi che erano divenuti di uno stranissimo e inusitato blu meravigliosamente canzante dolcissimi quando incrociavano quelli del suo salvatore e fieramente maestosi quando guardavano l'orizzonte infinito il grandioso animale trasformandosi in un lupo maestoso avrebbe seguito Aydan fino all'inferno azzannando senza pietà le putride fiere immonde dalle ali aguzze lo avrebbe capito con un semplice sguardo avrebbe intuito i suoi momenti di felicità dilatandoli allo spasimo e si sarebbe fatto da parte accucciandosi in un angolino remoto quando il suo padrone avrebbe voluto soffrire da solo avrebbe leccato le sue lacrime nei suoi momenti di buio dell'anima e avrebbe raggiunto le vette della felicità più semplice ogni volta che lo avrebbe accarezzato facendogli sentire tutto il suo amore incondizionato ma si sarebbe anche scagliato con tutto il suo impeto primordiale animale e violento come una furia assassina contro qualunque essere umano animale o non solo di questo mondo avesse rappresentato una minaccia per il suo padrone come se fosse l'ultimo giorno della sua vita sentinell non si sarebbe tirato indietro mai fino alla fine dei suoi giorni Aidan dopo quell'inizio movimentato di giornata e provato dall'impiego della sua forza primitiva che aveva scoperto di avere sin da piccolo ritornò con il suo angelo ululante a quattro zampe nella stanza del trono e dopo aver protetto le sue mani con le leggendarie stoffe si inginocchiò precipitandosi a ricevere l'illuminazione percipì l'aina in maniera fortissima e le visioni apparvero puro guerriero iridato la musica delle sfere ti convoca ancora una volta al tocco del cronografo magico il dolore non albergerà più dentro il tuo spirito le spirali sinuose del tempo ti avvolgeranno e le linee dell'arcobaleno ti guideranno verso la percezione del sembiante si risvegliò dall'ipnotica trance ora sapeva cosa fare capitolo 5 cavalcavano i fulmini i dei di una volta perso l'incanto e assunte le sembianze di potenza impersonali escono dai loro sepolcri aspirano a dominare sulla nostra vita e riprendono la loro lotta eterna l'anno trentesimo dell'era di Aydan era stato particolarmente rassicurante per colui che era chiamato dagli abitanti di Sky semplicemente il guardiano del faro l'isola era stata sempre protetta dal nest e con il passare dei secoli il faro sarebbe rimasto lì per sempre mentre i suoi stranissimi abitanti ne sarebbero stati solo i suoi precari occupanti Aydan era subito stato diverso dai suoi predecessori si era immediatamente fatto conoscere ed amare da tutti all'inizio come viandante curioso e solitario frequentatore delle botteghe e delle minuscole piazze lastricate del granito proveniente secondo la leggenda dalle montagne inabissate di Atlantide e solo successivamente si era presentato come il guardiano conosceva ogni angolo della sua amata Sky ormai ne aveva percorso i più reconditi anfratti ne aveva scoperto le sue bellezze più ancestrali dalle albe più limpide ascoltando la triste risacca marina piena dei gemiti e dei respiri degli esserini marini più dolci fino ai tramonti dal rosso sangue più intenso che avesse mai visto quando il sole si nascondeva sconfitto dalle lontanissime stelle della sera e si tuffava nello splendido oceano ed Aydan spesso nei suoi peregrinazzi si fermava lì immobile guardava con i suoi stanchi e tristi occhi azzurri l'oceano amico in cui a volte nei suoi momenti più bui aveva deciso di affogare lavendolo fino allo spasimo e colmava le sue narici della salsai di nemarina e del muschio dei verdi campi della vicinissima brughiera testimone di tante gloriose battaglie del passato nelle giornate degli inverni più freddi di sky scendeva dal nest e si recava all'estremo lembo della scogliera in precipizio lasciava aperto il suo pesante cappotto nero in modo che le ali del vento lo increspassero in modo da fargli permeare le sue membra di tutto il vento gelido oceanico si manteneva fieramente eretto si teneva dentro tutto l'immensa dolore di questo mondo assurdo e che non aveva creato lui attendendo la chiamata dell'orologio per poter dare finalmente un senso alla sua vita dopo aver ricevuto il sigillo dalla musica degli spiriti ed aver compreso che era imminente il messaggio il guardiano sbucò dai meandri del sottosuolo insieme al suo fido sentinel per portare a termine la quotidiana ricerca di cibo mancava poco allo scoccare del crepuscolo che si specchiava con non curante lezzadria nel mare che era in quel momento calmo l'uomo si addentrò nella folta radura adiacente un sentinel che gli faceva da formidabile segugio e guardingo apripista dopo aver fatto incetta delle erbe officinali di cui aveva bisogno delle batte del sambuco rigoglioso e di sufficiente cacciagione Aidan si apprestava a fare rientro quando gli parvi avere la sensazione palpabile del tempo che si stava fermando non notiva più il rude cozzo delle onde sulla scogliera poco distante anche gli alberi circostanti sembravano immobili come in un misterioso acquarello appena dipinto ormai rassegnati ad essere imprigionati per l'eternità dalla maestria del pittore sentinel cominciò stranamente a indietreggiare incrociando gli occhi del suo padrone e il piccolo amuleto che aveva intorno al collo al momento del suo salvataggio brillò di una luce bianca accecante che lo ricoprì interamente e si diffuse fino a bucare il cielo soprastante come una lama di pugnale percorrendo velocissima una traiettoria che conduceva fino al nest che come se fosse stato dotato di vita propria rispose al segnale con movimenti ondulatori e sussultori tremendi in quel preciso istante proiettando nel cielo una sequenza di codici arcani come l'era di Sky dipingendo complicate mappe tridimensionali di terrori lontanissimi e sconosciuti la terra vacillò paurosamente e improvvisamente roboanti tuoni squarciarono il cielo divenuto di un grigio plumbeo preceduti da lampi che dalle fattezze di gigantesche radici cosmiche illuminarono l'impaurito cielo che fino a poco prima era stato terzo e rassicurante i lampi erano stati incredibilmente potenti e avevano divelto due querce secolari proprio di fronte al guardiano come una gigantesca mannaia che impugnata con maestria dall'esperto boscaiolo spacca con geometrica precisione il tronco senza esitazione e con l'impeto di una tempesta ancora dalle estremità dei fusti di quasi trenta metri di altezza sgorgava la verde linfa vitale bruciata dall'impeto ingordo dei fulmini quando Aydan compreso il pericolo imminente si immobilizzò immediatamente inginocchiandosi e innalzò le braccia verso l'infinito chiamando a sé un urlo spaventoso e sprigionando dalle mani due fasci di energia luminosa compiendo su se stesso una elegante giravolta completa a 360 gradi e creando così un campo di forza che avvolse tutta l'area circostante nella quale si trovava anche sentinel che cominciò a lievitare insieme a tutto quel che lo circondava il fenomeno era assolutamente incredibile tutto ciò che circondava Aydan vorticava l'impazzata ad una velocità impossibile ed in senso orario arbusti pietre l'incredulo sentinel i giganteschi tronchi spaccati in due le fiamme della combustione dei fulmini le stesse scariche elettrostatiche delle diaboliche saette il tutto ebbe una durata imprecisata il tempo si fermò fino a che Aydan abbassò piano piano le brazza fino a incrociarle al suo petto e rimase così fermo mentre il sangue sgorgava accopioso dalle sue mani Aydan aveva le palpebre serrate e il capocchino vicino alle brazza ormai concerte sino allo spasimo l'agglomerato vorticante ed informe di oggetti animali energia piombò a terra il campo di forza si dissolse sentine subito si accucciò vicino al suo padrone leccandogli le mani da cui zampillavano fiotti di sangue copioso sino a farlo cessare miracolosamente ed Aydan riaprì gli occhi lentamente accarezzando il suo nuovo amico a quattro zampe ma non era finito purtroppo i fulmini ricominciarono a saettare ancor più violenti seguiti da tuoni che emettevano un fragore ultraterreno una legione di enormi sembianti alati piombò sulla terraferma cavalcando le saette che anzi parevano sputarli dai neri abissi del cielo e contemporaneamente altrettanti esseri immondi sbuccarono dal terreno adiacente ad Aydan e questi ultimi avevano le fattezze di bestie fangose irte di aculei disseminati su tutte le parti dei loro martoriati corpi con braccia brulicanti di vermi e arti inferiori che parevano saldati con la madre terra innominabili esseri alati erano invece come giganteschi rettiri dalle squame di acciaio insanguinato da occhi di fuoco e dalle ali sfrangiate ed enormi come quelle di colossali pterodattili infernali l'immondo esterminato sciame dal cielo e dalla terra si diresse minaccioso verso Aydan almeno tre enormi sembianti alti più di due metri erano già su di lui pronti a ferirlo a morte con artigli colanti veleno Aydan era ancora provato allo sforzo generato per creare il campo di forza appena dissolto ed era ancora prostrato quando si sentì improvvisamente scaraventato a vari metri di distanza era sentinel che con la sua leggendaria presa lo aveva addentato con una paradossale dolcezza per scansarlo dalla traiettoria di un potentissimo fascio di energia nera proveniente dal nest diretto contro i sembianti e di potenza tale da disintegrarli all'istante sentine caro mi hai salvato disse Aydan e gli occhi del lupo in quel momento emanavano amore verso il suo padrone ma guizzarono subito verso la nube di infidi demoni e non si sarebbero mai fermati fino al termine della loro malvagia missione mortale ormai era una notte fonda e ricolma di sembianti assassini Aydan invocò l'aiuto di Oisin il nest si squarciò dall'interno quasi che implodesse mostrando per la prima volta nell'era di Aydan le immobili cataratte murali e da cui zampillarono le linee di un maestoso arcobaleno che come si dotate di forza propria dopo aver formato una splendida parabola celeste riunite si compatte si riversarono su Aydan che ormai conscio del suo destino ingoiò quella incommensurabile energia e a mano a mano che gli esseri alati si avvicinavano faceva schizzare dalle mani sette di fuoco che tagliavano in due i sembianti mentre Sentinel si fiondava su quelli sgorgati dal terreno facendoli a pezzi con terribili morsi le sue macelle con denti accuminati dalla indicibile pressione serravano e dilaneavano brazza e gambe degli immondi riducendoli a monconi che schizzavano via con fiotti di sangue nero bruciante che rendevano l'aria irrespirabile i primi emissari dell'imminente guerra dell'arcobaleno emettevano urli sovrumani Aydan si muoveva velocissimo e con deleganza di un samurai servendosi solo di tronchi d'albero percuoteva percuoteva selvaggiamente i sembianti che si dissolvevano come puri spiriti venendo risucchiati verso il cielo così formando stranissimi mulinelli ingoiati dalle nuvole mentre lo squarcio del nest si sigillò completamente e le numerose cateratte svanirono lo scontro durò un tempo indefinito spazio e tempo si erano dilatati all'infinito e le prime luci dell'alba fecero capolino accarezzando il manto reale dell'indomito sentinel che continuava senza sosta a falsare senza pietà i sembianti come se fosse l'ultimo giorno della sua vita mentre Aydan lo guardava ancora stupefatto per la sua inaspettata e incredibile forza fino a quando finalmente l'ultimo essere che preannunciava la futura guerra esalò l'ultimo respiro una profonda sensazione di déjà vu colse Aydan aveva forse già vissuto quel terribile evento con sentinel in un'altra era capitolo sesto i due mondi al di là del bene e del male esiste uno spazio lì è dove ti reincontrerò era l'ultima sera delle vacanze estive a Fort William il dodicenne Aydan Whitehorn aveva abbandonato improvvisamente il suo sacco a pelo lasciando i giovanissimi compagni d'avventura ancora placidamente assonnati ed esausti per la prima esperienza di vita all'aperto da soli senza genitori lasciando la grotta e addentrandosi nel fitto bosco adiacente accarezzato da una sinfonia di uccellini e altri flebili rumori emessi dalle creature del luogo non aveva paura si sentiva anzi attratto dal richiamo ancestrale della natura e armato del suo spirito di scoperta camminò per lunghi interminabili minuti calpestando le foglie secche aiutandosi con il giunco nodoso di quercia che aveva modellato e scolpito con il coltellino piantandolo innanzi ai suoi passi per far fuggire serpentelli o lucertolina che lo avevano sempre spaventato ricordava in quei momenti il dolce genitore e sin dalla sua più tenera età lo aveva condotto con sé iniettandogli voglia di arcano e brezza d'avventura la debole luce lunare gli accarezzava le guance e alla fine di un lungo sentiero disseminato di vegetazione rigogliosa e alberi che parevano accoglierlo a braccia aperte aveva imboccato uno splendido laghetto nascosto e protetto dall'ampia e intricata rete di arbusti foglie e fiori di un profumo che ubriacava lo spirito ancora fanciullo di Aidan attratto da una forza inspiegabile si sedette con le gambe incrociate sulla sponda del laghetto ascoltando i debolissimi suoni degli animaletti operosi il ronzio degli insettini alati che compievano con fatica la traversata da un lato all'altro del laghetto a pelo d'acqua osservando con interesse le intermittenti bollicine che salivano dai fondali allo specchio d'acqua e si intrespava languidamente riassumendo subito la sua immobilità Aidan era felice si sentiva in simbiosi con la natura quando un meraviglioso cigno bianco con infinita classe sbucò dal lato oscuro del lago e con movenze delicate e lente increspò lo specchietto e si diresse verso di lui che era come ipnotizzato da quella visione puro ritorno dello spirito verso la propria sorgente parte dell'uomo che tende al bene al meglio di sé alla perfezione alla spiritualità il piccolo guardiano aveva sempre dimostrato un vivido interesse per lo studio degli animali e sovente era avvezzo a rintenarsi nella piccola biblioteca della sua scuola perdendosi ore ed ore a sfogliare libri di botanica e zoologia ed aveva sempre subito il fascino dei cigni da sempre considerati il simbolo della bellezza eleganza e dell'amore eterno il destino gliene donava uno proprio di fronte a lui e gli tornò in mente la favola che il fratello Gavain gli raccontava per aiutarlo a prendere sonno la leggenda dei figli di Lire e si sentiva proprio come il procinto di essere trasformato in cigno la natide reale era di un bianco folgorante il suo becco era di un arancione intenso e aveva una macchia nera che circondava i suoi occhi stupendamente fissi su di lui come se lo avessero conosciuto da sempre il suo collo era lungo e slanciato e le sue ali erano spettacolari lunghe e bianche e sfoggiavano una combinazione che le rendevano straordinarie quando si aprivano raggiunto Aidan con il suo dono d'ali dapprima si immobilizzò come colto da un'estasi mistica poi intrecciò il suo collo a quello di Aidan plasmando uno splendido cuore quasi come se il bambino fosse il suo amato la creatura venuta dal nulla e infine immerse delicatamente il becco e parte del lungo collo nell'acqua che dopo qualche secondo creò un piccolissimo mulinello da cui emerse una miniatura di un faro fatto interamente di ghiaccio grande quanto il palmo di una mano Aidan distinto lo afferrò con le sue manine e una volta guantatolo il piccolo cilindro di ghiaccio si sublimò e rimase completamente assorbito dai palmi del bambino lasciandone però dei solchi profondi e brucianti il piccolo era rimasto sconvolto da quell'evento e dolorante era scappato dal laghetto correndo all'impazzata e rientrando nel rifugio subito dopo ancora scosso si ficcò dentro il sacquapelo le mani gli pulsavano dal dolore e non voleva far altro che dormire il più profondamente possibile anche se non ci riusciva pensando e ripensando allo splendido cigno a quella sensazione indefinibile che aveva provato quando quel pezzettino di ghiaccio era entrato dentro di sé penetrando nelle sue membra e dalle stranissime visioni che erano seguite finalmente le sue palpebre si chiusero e lontanissimi mondi si affacciarono in un turbolento sonno accompagnate da una voce imperiosa che così recitava da questo momento sai l'ultimo prescelto per proteggere madre terra nell'ultima era della guerra dell'arcobaleno affronterà ai sembianti e sarai catapultato dove ha avuto origine tutto per comprendere la tua missione imparerai ad apprendere le origini del nest e a dominare i suoi immensi poteri e vide due mondi paralleli due sfere celesti una splendente di gioia di vivere di sconfinate terre rigogliose baciate dal sole abitate da esseri viventi in armonia con la natura in cielo sulla terra ferma e nelle profondità silenziose degli oceani e un'altra invece dannatamente nera condannata in una dimensione parallela ad una notte eterna e brulicante di esseri tristi ed immondi dalle fattezze di sembianti dei primi ma costretti ad un'esistenza da condurre in una dimensione rallentata e dolorosa dominata da indicibile sofferenza ed acerrima invidia per l'altra sfera da sempre agognata i sembianti erano esseri indefinibili l'uno diverso dall'altro capaci di assumere le fattezze di qualsiasi essere e di acquisirne i poteri predilisendo di solito mischiare esseri viventi anche di diverse razze forme o dimensioni marini volatili così dando vita a pure bestie innominabili guidate solo da odio e violenza avevano inoltre la capacità di infettare gli esseri con cui venivano a contatto ed erano dotati di un'armatura che ne esaltava la forza tra di essi vi erano quelli più primordiali ma anche i comandanti tutti sotto il dominio del supremo Zairos il più oscuro e indomito dei creatori colui che aveva voluto sfidare il destino dell'ultimo universo che aveva raggiunto i confini del nulla sfidando le leggi dell'oscurità e re dell'annientamento nichilistico e della tristezza irrinunciabile e sprezzante della gioia feconda della vita ma il supremo non era stato sempre così l'adoratore delle tenebre un tempo innominabile era stato appagato e in simbiosi con gli altri creatori l'eterna porta dell'ultima era si aprirà per l'ultima volta allo scoccare del leggendario orologio a sopraggiungere dell'anno astronomico 9999 un immanso bagliore sarà generato dal risveglio di tutti i fari della terra ed i sembianti comandanti da 777 carri guidati da cavalieri neri cavalcheranno l'arcobaleno e varcheranno l'accesso con dono di inaudita velocità attaccando il nest per la battaglia finale così quella tremenda voce che stava tormentando il giovanissimo Aydan si zizzì improvvisamente e il piccolo si svegliò di soprassalto grondante sudore con le manine che erano divenute luminescenti ma che gli provocavano fitte di dolore mai provato per un bimbo di 12 anni il destino da quel momento era segnato per Aydan i sigilli erano stati trasmessi capitolo 7 l'isola delle nuvole Aydan era ancora immerso anima e corpo nella cruenta battaglia terminata poco prima al sopraggiungere dell'alba dorata quando finalmente gli ultimi sembianti erano stati dissolti dal potentissimo fascio del nest che come un essere vivente aveva mostrato tutta la sua potenza ancora una volta ridonando la vita facendo risorgere la luce sull'isola delle nuvole il faro per la prima volta era segnato dal tempo e dalle intemperie con macchie di sale sparse sui muri e crepe profonde come cicatrici che ci avessero potuto parlare avrebbero avuto ognuna una piccola grande storia da raccontare abbarbicato sul margine di un'aspra scogliera sversata dal vento se ne stava lì pari ad un braccio lungo e spigoloso proteso in quella frazione d'oceano detta de mens e puntava contro il misterioso profilo delle isole ebridi esterne che si mostravano più intriganti che mai sulla linea luminosa dell'orizzonte infinito Aidan quindi dopo aver stretto per lunghi secondi in un affettuoso abbraccio sentinel che pareva tranquillo e tornato il solito animale giocherellone gli fece cenno di rientrare al nest ma il lupo guardandolo con occhi quasi serrati si diresse nella direzione opposta con sveltezza verso le pareti rocciose attorno al faro e giunto quasi sul suo estremo lembo si fermò e con fare regale innanzò il muso e ispirò profondamente la salsedine marina con occhi chiusi e fare estasiato Aidan si godette quello spettacolo e non lo avrebbe interrotto per nessuna ragione al mondo Sule Urie Gazzemarine e Cormorani si muovevano disinvolti fra quegli anfratti scocesi mentre guardando più in basso focene delfini e balene danzavano felici nell'oceano ribollente era quello il nascondiglio segreto di Sentinel dove tante volte era scappato per mettersi in contatto con madre natura era il posto dove il paradiso si presentava solo ai pochi che avevano avuto il privilegio di poterlo conoscere e Sentinel voleva rendere partecipe il suo padrone dell'infinita gioia che quell'anfratto gli donava sempre condividendo con lui quell'immensa felicità Aidan era paralizzato dalle intensissime emozioni che stava provando in quel momento le lacrime di felicità gli sgorgavano dagli occhi e gli ritornava in mente l'agglomerato di ricordi vividi della sua fanciullezza i volti dei suoi amici del cuore con cui si era promesso eterna fratellanza l'espressione un po' incredula ma rassicurante e dolce della sua piccola Jören dagli occhi di arcobaleno e dai capelli lunghissimi di seta accarezzati dal vento a cui aveva promesso l'eterno amore era quello il paradiso in terra era ciò per cui avrebbe lottato fino alla fine dei suoi giorni sprezzante del dolore immenso che si propagava all'interno del suo martoriato corpo d'uomo sempre più forte ormai e lancinante l'ora era vicina e Aidan lo presagiva sempre più chiaro dentro di lui i creatori gli avevano donato sentinel che era giunto fin lì per aiutarlo nello spirito e nelle membra e pronto a sacrificarsi in qualsiasi momento Aidan riprese fiato si sedette osservò le colonne scure di basalto stracolme di vita e contemplò l'oceano cercando di capire se come narrava la leggenda una strada segreta scorreva sotto il mare unendo la sua sky con il capolavoro più grande ma nascosto che la natura aveva donato all'isola di Smeraldo Capitolo 8 Acedia La terra per come era stata conosciuta fino a quel momento era solo un insignificante granello dell'intero universo ed era destinata all'estinzione era giunto il suo tempo ogni cosa ha un inizio e una fine Acedia la sfera dannata era in perenne allineamento con quella terrena in un tetro e perenne parallelismo ma in un plumbio rallentamento brulicante di sembianti dormienti ma in attesa dello scoccare dell'anno astronomico 9999 più volte sventato dai predecessori di Aidan ma la congiunzione astrale era ormai imminente nulla avrebbe potuto evitarlo ancora una volta acedia era il regno dell'oscurità delle tenebre eterne forza vitale negativa che nutriva i suoi abitanti il suo imperatore Zairos era di una infinita bellezza nascosta egregiamente dalla corazza di una creatura mostruosa ed era sopravvissuto alle infinite battaglie delle ere e soprattutto uno dei sommi creatori il ribelle condannato condannato a dominare la sfera nera e era stato uno degli artefici del faro e ne conosceva tutti i suoi meandri i punti di forza e quelli di debolezza dalla prima epica battaglia dell'ere la conquista del Neist era stata sempre il punto fermo per imporre il dominio dell'oscurità sulla luce e ciò poiché i creatori avevano conferito al leggendario faro il potere di imbrigliare le energie cosmiche del bene e del male era stato creato nella prima era come la più grande opera dell'universo a testimonianza della loro grandezza e saggezza un concentrato astrale irrepetibile posto in un luogo indeterminabile nello spazio-tempo e conoscibile solo ai creatori stessi da esso era stato determinato l'equilibrio dell'intero universo e delle galassie infinite ma Zairos il creatore di mondi immaginari era iracondo per l'infinita energia ridondante nel neist volendo impadronirsene come unico tra gli unici si allontanò bruscamente dagli altri magnifici creatori che lo espulsero isolandolo eternamente nel limbo dei non mondi lasciandolo libero di creare al suo piacimento miriadi di galassie parallele ma da esse sideralmente distanti e con la dannazione del loro penoso rallentamento da allora la ricerca e conquista del nest era stata il suo unico motivo di esistenza condannato a non morire in quanto creatore dallo scorrere dell'ere astrali le battaglie tra l'impero dei sembianti di Zairos e le forze dei creatori erano sempre divenute più cruente di era in era fino a quando in occasione dell'ultima grande battaglia prima dell'arrivo di Aidan quando ormai tutto pareva compromesso e Zairos era vicinissimo ad impossessarsene il triste fu tradito dal suo fido discepolo Unity il leggendario Cigno Bianco che riuscì a portare via il Neist dalla sua inaccessibile ma ormai compromessa ubicazione astrale per condurlo sulla Terra un pianeta primitivo abitato da semplici organismi unicellulari la leggenda iniziò il Neist fu nascosto nell'universo in quel piccolo granello inutile dell'infinito cosmo e i creatori scelsero i guardiani sin dall'inizio dei tempi illuminandoli uno ad uno della loro saggezza e investendoli della loro energia dal primo precelto fino ad Aidan l'ultimo guardiano di Sky colui che avrebbe dovuto combattere la battaglia finale quella contro il superbo bellissimo imperatore dei sembianti che aveva ormai già da svariate ere scoperto l'ubicazione del Neist aveva così creato Acedia mondo parallelo del pianeta Terra lo aveva popolato di terribili sembianti pronti a scatenare l'inferno sulla Terra all'apertura del portale spazio-temporale allo scoccare dell'anno astronomico 9999 segnato dalla stanza dell'orologio questa volta non si sarebbe tornati più indietro quel rintocco sarebbe stato l'ultimo per il Neist e l'umanità intera all'assalto sarebbe andato questa volta direttamente Zairos a cavallo del più grande arcobaleno mai visto nel mondo terreno capitolo 9 ritorno a Fort William quanto più un uomo invecchia tanto più si riavvicina alla fanciullezza finché lascia questo mondo in tutto come un bambino al di là del tedio della vita e al di là del senso della morte Aydan era ancora turbato e stupefatto per il crogiolo di sensazioni positive di cui era ancora imbevuto dopo aver avuto il privilegio di aver condiviso il luogo incantato e segreto di Sentinel che mostrava ancora una volta di essere un essere vivente speciale unico fuori dal comune e che si nutriva solo dell'amore del suo padrone ma che era anche portatore di una forza meravigliosa ed arcana Aydan incrociò lo sguardo del lupo e comprese che quel luogo così stupendamente fiabesco avrebbe dovuto restare segreto dal resto dell'universo o ristoro per il loro spirito nei momenti di dolore e fatica fisica era giunta ormai la calda luce della stella del mattino i due tornarono quindi nel loro rifugio sicuro il nest sentinel come al solito scomparve dopo essersi dolcemente stilacchiato e dopo aver leccato con notevole impegno i drappi che facevano le mani di Aydan piccola peste inutile che te lo dica non scomparire non tornare solo quando senti il profumo del pranzetto mi raccomando disse Aydan scherzosamente e con una voce che era di una dolcezza toccante con un tono sussurrato davvero mite se paragonato alle urla sovrumane che gli sgorgavano da dentro quando aveva combattuto i sembianti poco prima Aydan si preparava a svolgere i suoi compiti di guardiano come ogni giorno e si recò nella stanza dell'orologio contemplando l'orizzonte e come spesso gli capitava socchiudeva le palpebre come se i suoi splendidi occhi azzurri dovessero abituarsi con molta calma ai raggi del sole adiacenti i marosi parevano fare a gara tra chi percuoteva con maggior vigore di rigogliosa schiuma salata il vecchio naist che ingoiava sale e detriti marini con l'elegante austerità di un vecchio pescatore dal viso segnato da profonde rughe che con la bocca serrata e fusa con la sua leggendaria pipa continuava imperterrito a sbrogliare la complicatissima matassa della sua rete di una intera vita di fatica il frastuono delle onde che sferzavano violentemente l'idolo era affascinante per Aydan che ascoltava la sinfonia dei flutti completamente fermo godendosi l'infinito l'acqua si infrangeva contro quelle enormi rocce producendo uno sciabordio un rumore quasi assordante ma nello stesso tempo il vento lo rendeva intenso e rilassante il vento gelido di Sky prolungato e forte passava sul volto di Aydan portandogli una sensazione di tranquillità si sentiva inoltre il tonfo quasi cristallino di ciascuna goccia ogni volta che il vento si riduceva e si faceva più fioco le piccole gocce precipitavano in acqua su uno strato di schiuma nivea che compariva lentamente tra le acque il cielo diventava sempre più scuro e gli abitanti di Sky si allontanavano sempre di più dalla vista di Aydan proprio come le onde si distaccavano andando sempre più lontani fino a scomparire in lontananza guardiano torna Fort William ancora una volta si guardingo come un gufo reale e veloce e intangibile come l'alito del vento l'ora della tua missione è vicina ritroverai ciò che era stata la tua ragione di vita una voce imperiosa ma rassicurante entrò dentro di lui e una premonizione si svelò Aydan senza indugio si preparò immediatamente riapparve Sentine al suo fianco con occhi di fuoco ardente e riempito lo zaino di provviste ed altri oggetti utili lasciarono la dimora degli eretti capitolo decimo Deuren vorrei poter tornare indietro nel tempo trovarti prima e amarti più a lungo lontanissimi ricordi di luoghi cari affiorarono durante il cammino di Aydan lì si era svolto il più strano ma anche appagante incontro della sua giovane vita ma non ne rammentava i dettagli e ciò che poteva essergli accaduto associava però il posto ad una grande gioia e lungo il cammino una sequenza di immagini si fecero vivide confermandogli che lì non gli era successo nulla di doloroso o spiacevole anzi lì aveva scoperto di aver acquisito uno stranissimo potere dalle proprie mani che da allora aveva tenute ben nascoste alla vista degli altri dopo lunghe ore di cammino una pausa per consumare un pasto frugale con uno scoppiettante fuoco di rametti di leccio odoroso e querza secolare sentinel appariva contentissimo e saltellava e rincorreva animaletti del bosco si assentava e poi riagguantava l'odore del padrone era ormai l'ora del tramonto erano finalmente giunti a fort william e quando sbucarono di fronte al placido laghetto ecco che aidan si sentì insimbiosi con esso e con sentinel si sedette vicinissimo alla sua sponda e ancora una volta la lezzenda si rinnovò il lago si increspò e accompagnato da un bagliore di un bianco accecante apparve un maestoso cigno bianco che si dirigeva con andatura tranquilla verso aidan lentissimo come il volo di uno stormo di fenicotteri intravisti da lontanissimo e dall'espressione dolce come il bacio della buonanotte che rassicura il piccolo cuccioduomo impregnato dell'odore dell'odore della mamma sentinel si accucciò fino quasi ad appiattirsi e scodinzolò debolmente rapito dal cigno aidan era stordito da ciò che stava vedendo si trattava di un miraggio o davvero quella creatura maestosamente enorme si stava avvicinando a lui e improvvisamente sentì nell'aria l'inconfondibile profumo della sua duren era stata la sua principessa si erano conosciuti nel villaggio di stonehaven dove entrambi erano nati e cresciuti aveva gli occhi verdi come due esmeraldi incastonati nello splendido visino e i capelli lunghi lisci e neri come la pece aidan se ne era sentito innamorato e lei lo aveva intuito immediatamente e l'amore era esploso nei cuoricini di quelle due piccole anime si erano scambiati i loro pensieri e le loro promesse su un piccolo diario che duren custodiva gelosamente e il piccolo aidan si sentiva unico e importante per lei ogni volta che anche solamente la intravedeva da lontano sentiva l'impulso di doverla proteggere e di essere come un tassello che avrebbe trovato la sua unione perfetta solo con lei aveva solo 12 anni ma per lui duren rappresentava il suo respiro di vita la sua ragione d'essere fino a quando semplicemente la sua fatina andò via non la vide più e solo dopo qualche mese si recò a fort william la vita era andata avanti il giovane aidan aveva scoperto di avere straordinarie dote interiori e ulteriori incredibili donatigli dai creatori ma in uno spazio recondito del suo cuore se nascondeva un cuoricino quello più piccolo e pulsante della sua principessina geren amore mio sai tu così improvvisamente disse al cigno e si fermò vicinissimo ad aidan quasi a sfiorarlo con il becco dorato e il mondo circostante si immobilizzò sentì per la prima volta il battito accelerato del suo cuore lo scorrere del sangue nelle sue vene un flusso potente che percorreva tutte le sue arterie come un fiume in piena intuì di avere il controllo delle sue articolazioni e delle fibre muscolari che si diramavano in tutto il corpo percepiva le primarie sinapsi cerebrali gli sembrava di avere il pieno controllo del suo corpo mai come in quel momento percepito il cambiamento nel suo essere continuò a fissare il cigno che avvolto nell'aria profumata di Dioran rispose mio piccolo soldatino non mi hai perso chiama il mio nome nel momento del bisogno non potrà mai una distanza materiale temporale allontanarci se desideri essere accanto a me già lo sarai non appena mi penserai ed io veglierò sempre se di te ma ora fai attenzione a ciò che ti dico torna al Neist inginocchiati nella sala del trono e quando sarai piombato nell'oblio nero del sonno sii lesto guardati dai lusinghieri cacciatori di sogni scegli per seo e sbriglia il creatore ribelle dalla tristezza questo è il tuo viaggio capitolo 11 le anime pure degli eroi possa la strada venirvi incontro possa il vento spingervi dolcemente possa il mare lambire la vostra terra e il cielo coprirvi di benedizioni possa il sole illuminare il vostro volto e la pioggia scendere lieve sul vostro campo possa il dio tenervi sul palmo della sua mano fino al vostro prossimo incontro possa la sua leggerezza largamente benedirvi ancora scosso dall'esperienza appena vissuta con la consapevolezza di aver acquisito una nuova forma più piena di controllo del suo essere congolante inoltre di gioia per aver incontrato anche se in maniera così stupendamente strana Geran Aidan si rimise subito in viaggio verso Sky con Sentinel al suo fianco agitato pensava e ripensava al messaggio criptico trasmesso gli dalla sua amata traendone un'unica certezza ricongiungersi al Neistal più presto ma anche se aveva impresso perfettamente nella mente l'intera frase non riusciva a comprenderne appieno il significato cosa lo aspettava davvero una volta tornato cosa sarebbe successo nella sala del trono chi erano i lusinghiari cacciatori di sogni cosa si intendeva alludere quando si era menzionato Perseo e infine la parte finale del messaggio davvero incomprensibile il viaggio di ritorno fu volutamente interminabile per Aydan come se volesse rinviare la dura prova che avrebbe dovuto sostenere a breve e così decise di godersi la strada del ritorno come non aveva mai fatto prima in vita sua fermatosi tantissime volte percorrendo pigramente strade sterrate alternative sentieri nascosti riposando in un locande poco conosciuto ai viandanti ma condotte da persone semplici e concrete bevendo da limpidissime sorgenti cristalli purissimi di acqua ghiacciata sgorgante dal cuore della montagna mangiando i mirtilli neri selvaggi dal sapore di melassa dolcissima ricordo della sua infanzia gustando i funghi appena fuoriusciti dai tronchi d'albero che suo padre gli aveva insegnato a scegliere e distinguere da quelli velenosi e mortali questa nuova esperienza voleva che fosse qualcosa di diverso e la intensa e rozza gioia delle origini provata da Aiden diede una inaspettata gioia anche al buon sentinel che riposta l'inquietudine iniziale era con il suo padrone nel bel mezzo della natura felicissimo non solo di gustare nuovi e succulenti pranzetti a base di cacciagione o procurati da solo grazie al suo innato istinto animale di predatore ma anche offertigli da corpulenti e paffuti locandieri di villaggio in villaggio ma era anche soprattutto orgoglioso fino allo sfinimento di essere il beniamino di tutti quelli che si avvicinavano a lui per fargli lunghissime moine il buon lupacchione si lasciava carezzare come mai aveva fatto si gustava le lisciatine dei bimbi al suo manto arzentato per non parlare delle sue improvvise scappatine per adulare chissà quale vezzosa cagnetta per poi tornare quattroquattro da Aydan più gioioso burlone piccola peste combina guai bugiardone don Giovanni rubacuore che mai Aydan lo sfrutava anche solo per un secondo con un broncio più finto che vero e Sentinel si stendeva immediatamente a pancia in su con la coda che vorticava all'impazzata aspettando le fusa del suo salvatore che provò come mai più gli accadde nel corso di quella che sarebbe stata una lunghissima esistenza ultracentenaria e brezza della vita di quella che gli faceva venire voglia di continuare a respirare di bere ogni attimo dell'esistenza come se fosse l'ultimo di predisporsi sempre incondizionatamente agli altri di perdonarli sempre anche quando feriscono nell'animo a morte e di continuare a credere sempre e fecero ritorno capitolo 12 la visione da quando era giunto al faro Aydan aveva subito compreso che quello non era un semplice fascio di luce ma un baluardo di sapienza e una roccaforte di forza con il trascorrere degli anni della sua permanenza ne aveva scandagliato le sue stanze e i sotterranei percependone l'intera struttura solo dopo svariati lustri un po' come lo sciamano al culmine del suo apprendimento spirituale riesce a sentire e addirittura regolare il proprio battito cardiaco i primi tempi l'abitante del faro rimaneva scosso e turbato per i continui movimenti sussultori e ondulatori del monolite non comprendendone le cause fisiche essi erano però una costante del Neist e solo dopo anni Aydan aveva capito che tali brutali scosse che subiva il faro preannunciavano eventi futuri sovente di natura meteorologica ma altre volte invece di natura completamente diversa sino a sfiorare la pura premonizione funesta o di buon auspicio Aydan varcò il pesantissimo portone di accesso al faro con sentine al suo fianco era ormai l'ora del tramonto e il sole si era quasi interamente tuffato nell'oceano per ritirarsi esausto dopo aver elargito tutta la sua calda energia per fare spazio al lato oscuro della luna si sentiva intorpidito nelle membra ma anche inquieto nello spirito sentine il caro vieni con me lo so potrai mai lasciarti a digiuno così Aydan disse scarzosamente al lupo che con i suoi occhi blu lo fissò immediatamente rizzando le orecchie e con la lingua penzoloni l'animale con un fulmine a movimento si diresse verso le cucine piano non correre furbacchione nientimò Aydan e con passo biaccicato lo seguì e dopo aver armezzato con pentole vassoietti di terracotta e intingoli vari gli preparò una ciotolona di selvaggina stufata e condita con l'amarissima rucola di cui senti nell'araghiottissimo mangia amico mio piano non ingozzarti ma in due secondi il cagnolone aveva ripulito tutto come al solito e si dedicò a bere avidamente l'acqua fresca di sorgente sempre a sua disposizione Aydan si sedette all'enorme tavola rettangolare di legno di Mogano finemente intarsiata che nei tempi passati era stata teatro di tanti allegri e lauti banchetti tra i cavalieri del re ma anche teatro di scene interminabili prima di andare in battaglie da cui non si sarebbe fatto ritorno il perenne gioco del mondo Aydan prese a mangiare in maniera lentissima solitario e gli tornò in mente la sua infanzia l'ultimo giorno di vita dei suoi genitori ma anche la sgangherata bici del fratellone di quasi due metri di altezza primo genito dalle mani ruvide e callose da onesto tagliaboschi regalategli prima di andare via dalla Scozia per sempre e poi lo splendido sorriso timido della sua Geren terminato il pasto l'uomo dai palmi scintillanti salì sulla stanza dell'orologio Sentinel era scappato chissà dove e lì si sistemò dietro la grandiosa consolda ai mille comandi manopole bottoni tutta fatta in massizio e caldo mogano e pregiato ebano districandosi con eleganza e sicurezza tra le stranissime leve e con geni meccanisi stranissimi e l'orologio segnò l'orario previsto la granitica pedana sottostante si mise in movimento e un gigantesco fascio di luce squarciò il cielo circostante il faro dando vita all'eterna rotazione di 360 gradi la potenza delle candele era impressionante e l'energia sprigionata e incommensurabile e così avrebbe fatto illuminando la notte dal buio pesto fino all'alba anche questa era fatta ed Aidan prima di andare a dormire si recò come faceva ogni sera alla sala del trono per meditare e pregare quando appena inginocchiatosi si ritrovò immerso in un sonno profondo ogni tanto scosso solo dai flutti che sferzavano con forza i finestroni del nest che si bagnava di schiuma e sale tutto era nero davanti a sé percepiva solo un odore atria di zolfo e udiva urla sommesse misterisate isteriche distanti alzò gli occhi e intravide il faro che nella sua sommità proiettava mappe stellari tridimensionali alternate a sequenze di rune infocate tutto diveniva veloce e frenetico come una sequenza composta da tante scie luminose come meteore che sulcavano i cieli tutta insieme vide le costellazioni dalle perfette geometrie cosmiche osservò le stelle che le componevano come mai prima le scorse pianeti mai visti alcuni rigogliosi di natura selvaggia e solcati da grandiosi fiumi e oceani che li attraversavano altri nascosti da fittissime nebulose e tristemente aridi desolati o gelidi come l'abbraccio mortale di un sembiante e l'incredibile spettacolo ultraterreno si fuse con l'eco dolce e soffice della voce di Joeren che si fissò nella incredibile visione alla vetta della montagna più alta che avesse mai visto quasi in bilico ma come sostenuta da una coltre invisibile Joeren con i lunghissimi capelli mossi dal vento strinse i pugni e li riunì al centro del petto generando una folgorante stella di fuoco che la avvolse completamente fino ad esplodere in due maestosi punti di arcobaleno che velocemente crearono due traiettorie parallele che travolsero Aidan catapultandolo fino all'oscura e temuta costellazione di Perseo e appena arrivato in quel luogo astrale il precelto guardiano percepì un frastuono indecifrabile e paragonabile ad un cozzo di stelle ingoiate da un vorace buco nero quasi destatosi dal sonno dal vortice nero come spinti da un violentissimo oggetto piombarono su Aidan decine di esseri tentacolari viscidi come vermi e spaventosi come la morte datati di un grande occhio inespressivo dal vertice della protuberanza carnosa che poteva essere la testa dell'essere erano i temuti e leggendari cacciatori dei sogni e Aidan li vide catturare velocemente e avidamente tutto quanto li circondava stavano letteralmente divorando la mistica visione di Aidan tali esseri erano portatori di una ingordigia inaudita ingoiando stelle pianeti e tutta l'energia celeste intorno al sognatore tutto ciò che gli si stava palesando stava scomparendo e ad Aidan mancava il respiro come in una terribile pericolosissima prea notturna che può giungere in un sogno concitato come quello che stava vivendo il guardiano Aidan tentava di svegliarsi dall'incubo ma non riusciva a muoversi di un millimetro i tentacoli stavano inglobando tutto e gli spresevoli cacciatori assorbivano tutto come una primordiale ameba quando raggiunto l'apice del dolore e il punto di non ritorno riuscì ad aprire le brazza distese i palmi delle mani sino allo spasimo del dolore e inondò tutto ciò che era intorno a lui di un'energia affascinante e meravigliosa ricacciando quei parassiti del sogno nel vortice nero da cui erano stati sputati il buco nero prese a mulinare paurosamente e li risucchia fino a scomparire esso stesso per far posto finalmente ad una nuova ed enorme immagine che si impadronì di lui quattro esseri composti di pura luce abbagliante disposti in cerchio ciascuno di dimensioni sovrumane erano uniti tra di loro in modo da generare un reticolo di fuoco dal centro del cerchio però proveniva un'aura negativa fatta di tristezza palpabile e crudele e Aidan vide il ribelle imprigionato dagli altri si erano i creatori e anche l'essere che pareva incatenato in tutto il corpo o meglio in tutta la sua sostanza indecifrabile era enorme ma la sua luce era differente sideralmente gelida Aidan era convinto di essere nascosto agli esseri ma riusciva a vedere perfettamente ciò che stava accadendo quando improvvisamente il quinto imprigionato si voltò proprio verso di lui e lo osservò penetrandogli l'anima e Aidan subì uno shock tremendo si sentì come completamente a nudo di fronte a lui proprio come un piccolo essere mortale gli occhi del quinto erano iniettati d'odio e con la forza della mente gli sentò un messaggio terribile io sono Tsairos l'unico ribelle e il re dei tuoi sogni non avrai scampo contro di me la fine tua è dell'umanità stolta aggiunta l'arcobaleno sarà la tua tomba e Aidan si svegliò di soprassalto era madido di sudore e con l'immagine delle terribili e funere orbite vuote del re dei sogni un lacerante presentimento di morte come non lo aveva mai provato prima lo assalì con la furia di mille demoni mentre sentinel gli leccava spasmodicamente i palmi delle mani infocati e ancora più sofferenti e grondanti di sangue nero la fine era vicina capitolo 13 sulle ali della salvezza sono felice che esistano i gufi lasciate lasciate come idioti o maniaci gridino per l'uomo è un suono meravigliosamente adatto alla palude ai boschi crepuscolari che nessun giorno nobilita e suggerisce l'esistenza di una natura vasta e inesplorata che gli uomini non hanno riconosciuto essi rappresentano il completo crepuscolo e i pensieri insoddisfatti di tutta l'umanità il piccolo Aidan era tornato a casa a Stonehaven sentendosi diverso dentro scrutava spesso di nascosto le sue manine cercando di scoprirne quegli strani e dolorosi solchi che come fiumiciattoli sotterranei ogni tanto comparivano e dopo poco andavano via ma dopo la strana esperienza a Fort William li sentiva felice e non sapeva perché ma nemmeno se lo chiedeva aveva ripreso la sua vita tranquilla di scolaretto un po' svogliato e timido amicone di tutti ed emozionatissimo quando vedeva da lontano la sua Gerain diventava rosso paonazzo dall'imbarazzo quando lei lo guardava e sentiva un brivido che partiva dalle gambette fino ad arrivare ai capelli biondi che si passava davanti agli occhi per non farsi vedere dalla sua amata Aidan che hai a cosa stai pensando dai non ti imbambolare mangia tutto e corri in stanza a fare i compiti piccolo sognatore così lo riprendeva la mamma che aveva notato una serie di cambiamenti nel suo piccolo secondo genito e Aidan scappava nella sua stanza rifugio e incollava il muso alla finestra osservando le persone che camminavano ma anche attendendo il ritorno del fratello Gavain che amava tanto e che tante volte lo aveva preso in collo e lo faceva roteare ed Aidan impazziva di gioia e ridevano giocavano Gavain era più grande di lui di quasi dieci anni ed era stato un po' come una guida e maestro di segreti nascosti da lui da lui aveva preso l'arte di intagliare meravigliosamente il legno dando vita a folletti ignomi ma anche creature alate talvolta strane maestose ed eleganti e con lui aveva fatto le prime escursioni alla scoperta dei segreti della natura e di tutto quanto offriva e così trascorsero gli anni Aidan era diventato diciottenne aveva acquisito un'altezza di circa un metro e ottanta una corporatura robusta e uno sguardo di uomo aveva mostrato al fratello e solo a lui il segreto delle sue mani gli aveva rivelato l'illuminazione ricevuta a Fort William e Gavain lo aveva ascoltato sempre ammirato e stupefatto dopo che Aidan gli aveva elencato la sequenza di eventi il dolcissimo cigno e il piccolo naist dentro di lui la notte era giunta anche al termine del solstizio d'estate i due fratelli si erano lasciati con la promessa di rivedersi forse un giorno da qualche parte Gavain stava per lasciare Stonehaven per sempre e gli aveva detto promettimi che prenderai la decisione giusta quando giungerà l'ora e che non ti sentirai solo perché io sarò sempre dentro di te e si abbracciarono forte senza guardarsi negli occhi Aidan sapeva che qualcosa stava cambiando e si divincolò dall'abbraccio si rintanò nella sua stanza affacciandosi alla finestra e osservò il fratello con i suoi occhi azzurri ingoiando qualche lacrimuccia mamma e papà erano vicini a lui ma si fermarono all'uscio della porta guardandolo con affetto e richiusero silenziosamente la porta Aidan rimase lì immobile vicino alla finestra non aveva nessuna intenzione di andare a dormire si sentiva irrequieto quando i palmi delle mani cominciarono a scintillare del riflesso della luce lunare e sentì il dolore pulsare di nuovo dalle mani a tutto il suo corpo forte terribile premonitore non voglio non posso non ora La stanza si inondò di luce ed energia palpabile, le suppellettili, il comodino, l'orologio, le stesse lenzuola del lettino, i ninno li finemente intagliati, i quadretti delle splendide isole Aran, tante volte sognate e agognate dai genitori di Aidan, il quaderno di scuola, il libro delle fiabe regalato gli da papà Eric, tutto iniziò a roteare all'impazzata, compresi i vividi ricordi del piccolo Aidan, misti a sagome mostruose, che venivano spazzate via da ondate di schiuma assalata e stranissimi simboli, come microscopiche lettere di alfabeti sconosciuti. Ma cosa sta succedendo? Sta sognando o cosa? Aiuto! Aidan urlò, e il vetro della finestra della stanza andò in frantumi in un attimo, schizzandogli addosso decine di accuminati detriti litrei. Frotte di immondi sembianti sbucarono da tutte le parti e, nell'assumere le forme più strane e grottesche, si scagliarono verso Aidan, mentre altri fecero irruzione nelle altre stanze della casa. Nello stesso momento dall'alto, come venuto dal nulla, piombò sui sembianti un enorme gufo grigio. Era il leggendario Strix, nebulosa, dalla testa arrotondata di colore grigio e bianche sopracciglia che costeggiavano gli occhi fino alla base del becco. I suoi occhi, di uno stupendo colore giallo-oro e paurose pupille nere, erano puntati su Aidan. Con un guizzo di artigli forti e resistenti, con unghie affilate e taglienti poste all'estremità di grosse zampe, gli arpionarono le spalle, ma senza ferirlo, e lo portarono via, nell'immensità del cielo stellato. Dopo aver dilaniato gli esseri e averli dissolti, con bagliori di luce che bucava le tenebre da cui erano fatti, in uno spettacolo inenarrabile, tremendamente sul furio, e in un teatro di urla strazianti, alternate all'uggioso guppolare del leggendario rapace, emissario dei creatori. Aidan era completamente estordito e in balia del gigantesco uccello, ma sentiva di non doversi ribellare. Chiuse gli occhi e gli parvi di fluttuare nell'infinito, accarezzato dalla luce della luna e dalla brezza fresca della notte, trattenendo il respiro e godendosi il paesaggio di laghi, boschi, polline verdeggianti, città minuscole, esseri che parevano puntini in movimento sotto il sapiente volo del gufo, e dopo un lunghissimo tragitto aereo vide il mare, bello, esagitato e spumeggiante, tutto intorno ad un'isola stupendamente solitaria, brulicante di vegetazione rigogliosa e irta di cime scoscese, nel cui estremolembo sembrava essere dominata da un altissimo monolito di colore bianco. «Ma riconosco tutto. Sto sognando, forse?» E gli tornò in mente il messaggio trasmesso agli a Fort William. «Ti prego, gufo, torniamo a casa!» Così urlò a squarciagola, rivolgendo lo sguardo al di sopra delle sue testa, e il colossale uccello sembrò non curarsi di lui e continuò anzi a volteggiare sopra il leggendario faro. Solo dopo aver compiuto diversi giri, il gufo fece rotta verso l'infinito orizzonte, e lo riportò a quella che una volta era stata la sua casa. Stonehaven sembrava essere stata rasa al suolo e il posto dove abitava era stato completamente scoperchiato, come se vi fosse passato un uragano. Strix depose Adrian dolcemente sul terreno e lo guardò con una infinita dolcezza, disponendosi abbastanza vicino a ciò che restava della dimora del futuro guardiano di Skye. Ancora incredulo, Aydan si avvicinò alle sue radici con terrore. Ciò che restava dei suoi genitori laceva sparso tra i resti della casa. I sembianti avevano ammazzato tutti senza pietà. Anche la dolce canietta Ghinet era stata straziata. Aydan stava scoppiando di dolore dentro. Perché tutto questo? Lacrime copiose gli sgorgarono bagnandogli il viso e capì che qualcuno o qualcosa lo aveva portato via per salvarlo. Ma a causa sua, per lo stesso motivo, la sua famiglia era stata massacrata. E Strix si avvicinò a lui. Con i suoi giganteschi artigli lo portò via, lontano da tanto dolore. Verso un'unica meta, Skye. Era il 9 settembre 9969. Cavalcherai l'arcobaleno. L'ultimo guardiano. Capitolo 14 I Creatori Dopo venti giorni e notti, un lavoro di una fatica incredibile, riuscì a scoprire la causa della generazione e della vita. Anzi, di più ancora. Divenne io stesso capace di dare animazione alla materia morta. Qualche miliardo di anni fa, l'energia, i pianeti, le stelle, le galassie e lo spazio intergalattico furono donati dai Creatori che generarono lo spazio-tempo e tennero scuro il destino ultimo dell'universo. Uniti in un cerchio di fuoco, essi divisero equamente la loro infinita potenza, dando vita ai regni eterni. Arcadio il cieco si pose al vertice delle immense galassie ellittiche formanti la grande muraglia. Migalos, l'immenso, dominò le titaniche galassie a spirale costituenti il regno del vortice. Zilius, il gigante, sparse il suo potere negli sterminati ammassi stellari del regno dell'anello polare. Al-Gabad, il divino, consolidò la propria forza sulle restanti galassie enane sferoidali. E infine Zairos, l'enigmatico, maestro supremo di energia cosmica e padrone dell'oscurità. Il ribelle, creatore di mondi paralleli, imprigionato dagli altri Creatori e sembiante dominatore di tutte le galassie oscure e di acedia, creata per sferrare l'attacco finale alla Terra e impadronirsi del Neist, portatore dell'energia dell'arcobaleno infinito e spedito anni prima segretamente su quel piccolo pianeta insignificante. Tutti i Creatori in origine avevano in ugual misura il tremendo potere dell'arcobaleno, forza di distruzione primordiale e celeste, ma dal momento in cui la pazzia si era impossessata di Zairos, gli altri dominatori degli universi erano riusciti a privarlo, anche se temporaneamente, della sacra energia dell'iride, relegando il triste nel reticolo di fuoco coso. In quella strale gabbia, l'imperatore impazziva sempre di più di odio inimmaginabile e accumulava sempre di più energia negativa. Era di una bellezza indicibile ed ineguagliabile, macerata da un'armatura colossale e mostruosa, e la sottrazione in suo danno del potere dell'arcobaleno lo aveva reso furente e accecato dall'odio. Le ere erano trascorse cruente, tra continue battaglie, tra gli emissari dei creatori, i guardiani e Zairos. Il triste si era sempre palesato con forza sempre maggiore. Di era in era, aveva perfezionato le oscure arti dell'inganno e della confusione che aveva infuso ai sembianti. Aveva ormai scoperto l'ubicazione del sacro monolite, la torre dell'energia iridata. Ma i guardiani avevano sempre combattuto, relegando i sembianti nelle terribili segrete del Neist, tra atroci e inaudite sofferenze. Costui ormai, sempre più vicino al sacro monolite, aveva fatto sterminare tutto il villaggio e la famiglia dell'ultimo guardiano, ma non aveva potuto impedirne l'investitura e la trasmissione dei sacri sigilli da parte degli altri creatori, né l'arrivo al faro e ciò che avrebbe dovuto compiersi negli anni successivi per poter affrontare la sua massizia energia oscura. E ad Aydan sarebbe toccata l'esperienza più stupefacente e toccante della sua intera vita, acquisire poteri sovrumani, ricevere i segreti più reconditi del Neist, comprendere le mappe astrali proiettate dal faro, direttamente dai creatori. Capitolo XV I doni Aydan attendeva fiducioso la chiamata più importante della sua vita. Tutti gli eventi che erano accaduti dal giorno in cui era arrivato al faro in maniera così rocambolesca, gli anni tranquilli al faro, fino alla cruenta battaglia con i sembianti, proprio a casa sua, all'inizio del trentesimo anno, da quando aveva varcato il titanico portone del Neist, per poi passare alla visione avuta nel sogno la sera prima, lo facevano presagire che a breve sarebbe stato messo in condizione di poter affrontare l'imperatore almeno con nuovi poteri fino ad ora a lui sconosciuti. Intanto trascorreva le giornate pigremente, conservando le sue energie in attesa di sforzi futuri. A volte faceva lunghe passeggiate con sentinelle e dintorni del faro alla ricerca di arbi officinali dai mille benefici per il corpo e lo spirito, come gli aveva insegnato il padre sin da piccolo, oppure dei preziosi luppoli dorati di Sky per la preparazione del pane liquido di cui era diventato un esperto maestro. Nelle antichissime cantine che a nido d'api si diramavano al di sotto del faro, Aydan aveva rinvenuto tanti anni prima grandi botti di querza, originali dei boschi stregati di Witchwood, una volta utilizzate per la produzione dell'acquavite. e le aveva riutilizzate per la produzione del pane liquido, ambrato o dorato, per la gioia dei timidi abitanti di Sky da cui era a volte invitato in occasione delle celebrazioni nell'isola. In altre occasioni il guardiano trascorreva intere mattinate nella sala del trono pregando, oppure nelle terribili segrete sotterranee, teatro di tanta disperazione, dei sembianti lì imprigionati che nelle stesse avevano tentato di scavare, graffiarne le spessissime mura o dilaniarne le catene a chi li tenevano fermi fino a che non si sarebbero estinti. In quei luoghi essi avevano scritto col sangue nero dei loro artigli spezzati delle loro ancestrali origini cosmiche, dipinto con straordinaria dovizia di particolari, le galassie di provenienza, i mondi paralleli e rallentati da cui erano stati forgiati e Aydan aveva preso tantissimo su di loro, ma soprattutto aveva sempre sentito ciò che più terrorizzava quegli esseri, visibile chiaramente dai laceranti graffiti dei sembianti, il puro terrore verso il loro carnefice, Zairos. Ancora, il Whitehorn si dedicava spesso anche alla pesca, immergendosi con il suo pesante equipaggiamento dal salone delle armature o ancora intagliava tronchi di quercia trasformandoli in simpatici animaletti del bosco, falchi dagli occhi serrati e vigili, ma anche splendide croci e amuleti celtici. E la dunata arrivò in maniera improvvisa e insolita. Era una giornata uggiosa. Aydan era nella stanza dell'orologio, stava sistemando alcuni minuscoli ingranaggi del corpo illuminante del faro quando sentine l'attaccò ad abbaiare senza fermarsi in prossimità del portone. Aydan scese e si trovò innanzi a una figura avvolta in un pesante mantello nero e cappuccio che le nascondeva quasi interamente il volto che disse «Chiedo ristoro per questa notte, sono in viaggio da tanto, tu avresti un tozzo di pane e un bicchiar d'acqua? Certamente, straniero, ma palese il tuo volto affinché ti veda», rispose Aydan mentre Sentinel faceva stranamente incredibili moine allo straniero. Il viandante abbassò il cappuccio rivelando una testa canuta, un viso solcato da marcatissime rughe e uno sguardo fiero e schietto mostrando un accenno di sorriso. Aydan lo accompagnò nei locali delle cucine e lo rifocillò anche se entrambi rimasero silenziosi per tutto il tempo quando lo straniero abbassò il capo e unì le mani in segno di preghiera dicendo «Aydan Whitehorn, sei il precelto, inginocchiati, dentro di me alberga lo spirito del ceco Arcad» e gli impose le mani caldissime sulla fronte. Aydan capì che qualcosa stava per accadere, ma non funesta. La precognizione era giunta e Aydan ricevette il dono delle misteriose premonizioni. ebbe poi la sensazione che stesse acquisendo velocemente un potere nuovo come di telecinesi. Percepì poi, sebbene in forma primitiva, i pensieri dello straniero e addirittura le sensazioni di Sentinel. Aveva acquisito anche il dono della telepatia. Si sentì improvvisamente stanco quando ancora sentì di stare incamerando una sovrana agilità dei suoi arti. inoltre sentì il suo cervello inondato di linguaggi interi, tanti e diversi. Poteva ora comprendere qualsiasi linguaggio di natura organica. E il trasferimento terminò. Lo straniero, mero involucro terreno del supremo Arcad, era provato e cadde sfinito a terra. I primi poteri erano stati acquisiti. Aydan poco dopo era di nuovo vigile e riuscì a sistemare lo spossato e incapucciato in un letto adagandolo con dolcezza e andò lui stesso a dormire ancora ripensando a quanto gli era appena successo. Addirittura Arcad, il cieco creatore, si era manifestato e gli aveva concesso il dono di alcuni dei suoi poteri. Nel frattempo il Naist sussultava ed emanava getti di calore dalle cateratte muralie partecipando nella sua personalissima maniera a quegli eventi mentre l'oceano lo flagellava. Aydan cadde in un sonno profondo sentì il dovere di riposare per metabolizzare nel suo essere le nuove facoltà acquisite quando uno stranissimo fenomeno si verificò. Il suo corpo iniziò a lievitare nell'aria e nella stanza all'improvviso apparvero tre esseri alati di pura luce che lo avvolsero fino a sollevarlo mantenendone intatta la sua posizione orizzontale ed impossibile da spiegare secondo le leggi della fisica raggiunta la mistica aurea di Miguel Os l'immenso che ricreò in un singolo istante nella stanza del faro una intera galassia con al centro un buco nero super massiccio e trasmise ad Aydan con una serie di movimenti provenienti dal suo manto di luce i temutissimi poteri della necromazia e dell'invisibilità fino a quello dell'invulnerabilità mentre il guardiano dormiente si contorceva con smorfie di dolore aggrottando le sopracciglia e contorcendo il viso ad occhi chiusi e in piena sospensione aerea e tutto durò un tempo brevissimo del nostro misero spazio-tempo l'aura del creatore e gli esseri scomparirono nel buco nero roteante che inghiottì tutta la galassia in miniatura mentre il corpo di Aydan ritornava adagiato sul letto e la piega spazio-temporale si dissolveva capitolo 16 metamorfosi il sole risplendeva sulla Moon and Bay gli operosi abitanti di Sky stavano riprendendo le quotidiane faccende sebbene fossero preoccupati per gli strani fenomeni che stavano accadendo con sempre maggior frequenza tutto intorno al faro la sera prima lo avevano visto completamente immerso in una fitta coltre di nubi dense di fulmini e saette cui era seguita una fragorosa esplosione di luce e poi tutto era tornato placido e il cielo terzo e limpido tutti sapevano che i tempi erano maturi per una nuova battaglia delle ere ma molti avevano deciso di restare fiduciosi nella protezione del Neist mentre altri come i loro avi anni prima cominciarono ad andare via temendo che questa volta sarebbe stato il peggio Aidan era uscito presto con sentine al suo fianco che però sebbene scodinzolasse si teneva un pochino distante timoroso delle nuove facoltà concesse al suo padrone Aidan lo aveva capito perfettamente ed anzi lo aveva calmato entrando nelle sue membra e accarezzandolo con la forza del pensiero sono sempre io voglio che tu non abbia paura caro sentinel non temere ciò che ti mostrerò gli disse guardandolo negli occhi e il lupo si calmò all'istante si avvicinarono fino all'estremo lembo della roccia che divideva il faro dagli abissi dell'oceano Aidan si piegò sulle ginocchia aveva portato con sé la sacra croce di Brigid da lui intagliata e si rese invisibile agli occhi di sentinel e la fece innalzare al cielo controllandola con il suo nuovo potere donatogli dalla tele cinesi conducendola fino al vertice del faro il sacro legno si posizionò in un piccolo anfratto comparendo alla vista e riacquisì la visibilità sentinel era stupito ma rimase fermo fino a quando Aidan non gli fece cenno di muoversi e tornarono al faro il guardiano si srotolò i drappi dalle mani che conficcò nelle cateratte del nest che diede un sussulto improvviso l'alfaro si aprì un varco e un grandioso arcobaleno di luce si impadronì dal cielo avvolgendo Aidan e trasportandolo con una velocità vertiginosa oltre le nuvole Aidan aveva chiuso gli occhi e ora sapeva ciò che lo aspettava utilizzando il dono della premonizione del cieco lo attendeva un gigantesco essere era Sirius di cui però intravedeva solo le enormi estremità e parevano rigogliose radici verdeggianti ancorate alle nuvole il piccolo umano si lasciò imprigionare da quei gangli di energia che lo nutrivano di nuovi inauditi poteri e giunse la velocità inimmaginabile che entrò nelle sue membra ustionate a causa del bollore dei raggi dell'arcobaleno che lo aveva afferrato e Sirius allora regalò ad Aidan il dono dell'autoguarigione e le ferite si rimarginarono in pochi secondi vola senza limiti di spazio o altezza per sempre però sii cauto il tuo corpo resterà terreno e quindi soggetto alle leggi fisiche ogni volta che deciderai di usare questo mio dono e il gigante gli consentì di poter librarsi nel cielo e Sirius si dissolse esplodendogli in volto una sfera liquida ora Aidan aveva acquisito anche il potere di un oscuro criomante ma non era ancora finita l'arcobaleno rinacque e questa volta si dilatò all'infinito e prese la forma di un bellissimo fiore di loto dai petali colorati su cui Aidan prese a viaggiare da ovest ad est come una stella infuocata dapprima ritornando sull'isola delle nuvole che sorvolò guardandola con occhi di un albatros solitario Aidan era felice avrebbe voluto che non finisse mai quell'esperienza di luce energia positiva e si sentiva padrone del proprio tempo appagato come un cucciolo appena nato che si lascia leccare dalla mamma sfinita che lo ha partorito appena prima poi l'arcobaleno lo fiondò nella profondità dell'oceano e Aidan scese negli abissi con i raggi dell'arcobaleno che lo proteggevano formando intorno a lui un missile sottomarino ormai la pressione delle atmosfere gli stava facendo esplodere il cuore ma non si schiantò e dal nero abisso intravide il divino Al-Gabad da me avrai il dono di plasmare il fuoco quando ne avrai bisogno ricorda per una sola volta potrai piegare il tempo viaggiando nel passato e futuro sarai padrone in contrastato dell'acqua fino a modificarla a tuo piacimento e infine saprai trasportarti nei luoghi a patto che tu piccolo uomo ti sia già stato e scoprirai il dono dell'arcobaleno al momento giusto questo fu quanto detto una sola volta dal creatore e con una voce che parve ad Aidan dolcissima da ascoltare come la canzoncina di un bambino il guardiano si sentì accarezzare da migliaia di pesciolini fatti di pura essenza di paradiso che lo abbracciarono fino a ricondurlo sulla superficie dell'oceano in balia delle onde arrabbiate di Sky ora vedeva con i suoi occhi azzurri il suo faro ed era pronto Sentinel era lì sul lembo di roccia di fronte al precipizio ancora una volta scodinzolava il suo amato padrone era tornato sulla terra capitolo 17 ne riabissi di disperazione togli il sangue dalle vene e versaci dell'acqua al suo posto allora sì che non ci saranno più guerre il cerchio si era ricomposto i quattro dominatori dell'universo avevano ricondotto gli spiriti nelle rispettive galassie imposto l'ordine del cosmo e ristabilito il destino ultimo consentendo al povero umano di poter detenere in vista dell'imminente apertura del portale spazio-temporale alcuni dei loro poteri non essendo sufficiente averlo sublimato nel faro di Sky essendo però consapevoli di poter soggiogare ancora per poco il potentissimo e oscuro Zairos sotto la loro ragnatella australe ciascuno dei creatori era dotato del potere della multilocazione e a Zairos non poteva essere impedito di viaggiare nelle pieghe del tempo distorcendolo ma essi non potevano evitare tenendolo legato al reticolo astrale che i suoi viaggi potessero produrre effetti cagionevoli e delle teri rispetto al destino ultimo la creazione di Acedia era stata una grande conquista per l'imperatore dei sembianti perché così facendo aveva creato una testa di ponte verso la terra e il naist che andava posseduto una volta per tutte la prigione cosmica aveva però accresciuto i suoi poteri oscuri la condanna della non morte era odiosa per il triste poiché la Zidia lo stava consumando così da farlo impazzire e monte delle galassie da lui dominate si stavano disintegrando sotto la vorace azione di buchi neri sempre più grossi creati da lui stesso e impossibili da fermare i creatori questo lo sapevano e se l'ultima battaglia dell'arcobaleno non avesse avuto l'esito sperato Zai Ross avrebbe vinto ma le sue mostruose creazioni nere fuori controllo avrebbero divorato tutto proprio tutto loro compresi determinando uno sconvolgimento del fine ultimo dell'universo che sarebbe caduto in un oblio eterno di tutto ciò aveva la piena consapevolezza Zai Ross ma aveva perso il dono della saggezza da tempi lontanissimi ed era nutrito solo dalla fede per la nera distruzione cieca assassina maledettamente forte e inarrestabile come un gigantesco tsunami che si muove inesorabile e sparge morte insaziabile e vendicativo come una legione di dannati e velocissimi vampiri assetati di sangue che infestano e iniettano marciume primordiale inaridendo tutto quello che toccano e sferrò un nuovo attacco al faro il cielo sopra Sky divenne plumbio all'istante il sole fu oscurato da nubi velocissime color rosso sangue Aidan era lontano dal faro e si era recato alla locanda del cavallo alato insieme a sentinel per mangiare qualcosa quando sentì lo sconvolgimento dentro di sé uscì all'istante prese tra le sue brazze sentinel e con un guizzo volò verso il neist passando attraverso un finestrone e piombando direttamente nella stanza dell'orologio dove azionò forzandola la rotazione della pedana le candele si accesero in una sequenza velocissima e il fascio di luce illuminò l'oceano dall'orizzonte si scorgevano un'infinità di vascelli che si dirigevano spediti tutti nella stessa direzione il neist erano davvero tanti ed erano affiancati ciascuno da draghi malini enormi che si inabissavano e risalivano in superficie con la velocità di fulmini il faro sussultò e Aidan divenuto invisibile volò spedito fino a posizionarsi di fronte ai primi vascelli che viaggiavano a vele spiegate gremiti di sembianti che tenevano accalappiati a gigantesche catene lupi inferociti dagli occhi iniettati di sangue e da fauci mostruose appena scorsero Aidan i sembianti iniziarono a far roteare le catene con i lupi ancora imprigionati ad esse e li lanciarono verso il guardiano che sospeso in aria creò palle di fuoco e le lanciò verso i lupi bruciandoli all'istante velocemente uni le mani e plasmò cubi di ghiaccio facendoli catapultare sui vascelli creando paurose voragini sulle navi e facendole colare a picco ma non era sufficiente alzò il braccio sinistro al cielo invocò il divino e fece calare la pazzia sui draghi marini che cominciarono ad azzannarsi tra di loro e invasero i vascelli con le loro enormi sagome alcuni spezzandoli in due altri facendo strage di sembianti e provocando l'inabissamento stesso delle diaboliche imbarcazioni era stanchissimo era la prima volta che era stato messo alla prova così duramente ed ebbe solo la forza di volare al faro era allo stremo e non poteva usare più alcun potere aveva abusato della sua energia vitale e persa i sensi cadendo dal cielo stava precipitando come un cadavere e si stava schiantando sull'ammasso roccioso vicino al faro quando ebbe la percezione dell'impatto e riuscì solo a compiere con il suo corpo una traiettoria deviata ricadendo come una lastra di granito nell'oceano ho deluso tutti mi lascio andare e aprì la bocca per ingoiare acqua salata e morire una volta per tutte quando si sentì afferrato da una gamba da denti accuminati era sentinel questa volta era lui debitore verso il leggendario lupo i vacelli rimasti indenni dalla carneficina di Aidan erano ormai vicinissimi al faro i sembianti erano pronti a scatenare i lupi infernali o a suicidarsi schiantandosi contro il faro e infatti i primi cozzarono violentamente contro il monolite e subì un impressionante impatto ma restò fermo il fragore provocato era assordante innalzando una colonna di fumo fuoco e detriti gli impatti continuarono le belve erano fuori e pullulavano tutte intorno alcune artigliavano il cilindro di roccia tentando di raggiungerne la sommità o di accedere ai finestroni ma non riuscendovi perché dal faro improvvisamente colò un fiume di sostanza viscida acida e infuocata che al contatto con gli animali mostruosi li faceva precipitare o ustionare a morte i sembianti erano invece sparsi intorno al faro scappando da tutte le direzioni provocando strage di uomini inermi assaltando locande case e ammazzando tutto quanto era vivo evidentemente volendo far terra bruciata intorno al faro e dopo essersi saziati in quella maniera così abominevole si fiondarono verso il faro che pareva ormai sotto scacco e senza il suo guardiano trasinato da sentinelle all'interno dall'ingresso segreto marino e per il momento privo di sensi e il faro compì il miracolo con centinaia di sembianti assassini che lo dilanevano e lupi infernali aggrappati in procinto di sfondare l'ingresso con fragore enorme si staccò dal suolo e velocemente si inabissò come mai si era visto in nessuna battaglia dell'ere l'incredibile movimento provocò lo schiacciamento delle bestie immonde e l'annientamento dei sembianti la leggenda era compiuta Aydan non era ancora pronto per affrontare la morte che aveva le sembianze di Zairos capitolo 18 ritorno alla vita Aydan giaceva a terra il viso solcato di precoci rughe era fradicio e le palpebre completamente chiuse l'addome era rigonfio dell'acqua salata dell'oceano era immobile sebbene le mani sembravano mostrare quasi impercettibili i movimenti e sentine gli abbaiava e si dimenava vicino al suo corpo per tentare di destarlo ma inutilmente il lupo era stato velocissimo nell'agguantarlo sott'acqua e afferrarlo con le sue macelle poderose al polpaccio quando il corpo inerme del guardiano a testa in giù era caduto dall'alto nell'acqua come se fosse stato legato da una corda ad una pietra tombale Sentinel lo aveva trascinato con fatica fino al varco segreto del faro riuscendo ad azionare con il muso il meccanismo di apertura mimetizzato perfettamente tra le alghe marine con una forza non di questo mondo l'animale una volta che l'accesso si era richiuso aveva tentato di risvegliare il padrone in tutti i modi questa volta tutto lasciava presagire la morte per annegamento del suo salvatore e con un guizzo Sentinel prese a correre lungo il faro secondo una traiettoria che appariva complicata dal fatto che il faro era nelle profondità dell'oceano immerso in un buio sepolcrale ma soprattutto perché era evidentemente adagiato addirittura sui fondali solo un lupo dall'olfatto leggendario e migliaia di volte più sofisticato di quello di un essere umano poteva essere capace di individuare con il suo senso il percorso da fare per ritrovare la stanza dove avevano lasciato lo straniero incappucciato Sentinel sentì con il suo odorato che quella era la porta giusta e iniziò a ululare furiosamente con la selvaggia energia primordiale di un intero branco la porta si aprì e lo straniero incappucciato apparve con occhi infuocati e iniettati di sangue scoprì le sue mani che apparivano scheletriche ma dalle dita scarne tempestate di gioielli di incredibile bellezza e fulgore accarezzò il lupo che si calmò immediatamente il leggendario essere fece segno al lupo di indicargli la strada e l'animale riprese la corsa una scia luminosa fu generata all'istante dall'incappucciato e sentinelle fu avvolto cosicché in un batter d'occhio giunsero dove Aidan giaceva steso ormai freddo come un cadavere e dal viso contorto in una smorfia di dolore lo straniero gli si avvicinò e fece esplodere dai suoi occhi incaldecenti due sottilissimi raggi di energia che si insinuarono nella bocca chiusa del guardiano il corpo che appariva senza vita ebbe un sussulto e l'addome iniziò a contorcersi facendone rovesciare tutto il liquido dalla bocca del povero Aidan in più riprese in una scena raccapricciante l'uomo in un attimo sputò acqua salata e detriti con devastanti accessi di tosse e finalmente aprì gli occhi che incrociarono con terrore quelli rosso sangue dello straniero aiuto e dopo essersi alzato appoggiandosi con i gomiti stramazzò al suolo lo straniero lo afferrò e lo adagiò sulle sue spalle riportandolo silenziosamente nella stanza delle armature riprendi le forze povero umano non sei pronto per il flagello non posso interferire con il destino ultimo ma mi è stato dato mandato di farti tornare dall'oblio e dalla dannazione a te tanto care d'agoniata ma per l'ultima volta poiché se ancora il desiderio di morte che tu brami si risveglierà potente e repentino dentro di te non meriterai più di vivere e la tua intera vita sarà cancellata non sarai mai nato e i 777 cavalieri neri divoreranno il tuo spirito per l'eternità così la voce riecheggiò violentemente nel cervello di Aidan e scomparve lasciando nell'aria un fortissimo odore di metallo bruciato Aidan era tornato alla vita per l'ultima volta li guardò Sentinel con il più bel sorriso mai sfoggiato nonostante fosse tutto bagnato dalla testa ai piedi e immerso in un'oscurità totale in un monolite policato sul letto sabbioso dell'oceano capitolo 19 risorgi guardiano Aidan si era risvegliato dalla morte ed era la prima volta che gli capitava era pallido e sofferente ma vivo ancora fluttuavano libere nel suo cervello le immagini che si erano impadronite del suo essere un lunghissimo tunnel di luce i volti dei suoi cari defunti ma anche disconosciuti che lo guardavano nascosti dietro pareti di edifici scoperchiati terreni aridi ma disseminati di gigantesche croci celtiche processioni lunghissime di uomini avvolti in neri mantelli che si fustigavano nel volto con scudici spinati due globi solari infuocati che lo accecavano l'acqua assalata che lo affogava guerrieri rivestiti di pesantissime coppie argente che danzavano in cerchio nel solstizio d'estate rettili enormi che si azzannavano tra loro avvoltoi che piombavano dal cielo su carcasse di uomini morti in decomposizione Aidan si diede uno scossone quasi a voler cancellare tutto dalla sua mente e si rimise in piedi ancora frastornato sentì l'odore di sentinel vicino a lui e si rese conto di essere circondato dalle tenebre e avvolto da un silenzio tombale vicino a lui giaceva il mantello dello straniero di cui non vi era più trazza ora però non aveva il tempo di interrogarsi per scoprire dove fosse finito era ancora tutto bagnato si trovava nel faro questo lo aveva capito dagli odori che lo circondavano ma si rendeva conto di essere in una posizione innaturale abituato a considerarne la struttura verticale procedendo a tentoni aveva capito che il cilindro gigantesco per qualche motivo incredibile era adagiato in orizzontale aveva bisogno di una sorgente di luce per orientarsi meglio e provò ad aprire i palmi delle mani per farsi condurre dalla luminescenza dei solchi era doloroso ma lo trovava l'unico sistema al momento rivoli di sangue luminoso sgorgarono dalle mani e rischiararono il posto in cui si trovava era nella zona delle cucine ma regnava il caos tutto era rovesciato a terra ogni cosa era come scaraventata lontana dalla sua posizione originaria come se un marremoto avesse inondato tutto e poi avesse lasciato solo detriti dopo essersi ritirato vi erano dappertutto creature marine ormai morte o agonizzanti Aidan era incredulo e stupito di fronte a quello spettacolo ma decise di muoversi con senti nella suo fianco e scartando oggetti facendosi strada nel filo di luce creato dalle sue mani si mosse cauto e guardingo il dolore si faceva sempre più forte e in più occasioni dovette fermarsi per ricoprirsi le mani per poi riaprirle confitte di supplizio che lo trafiggevano questo procedere era complicatissimo e lento a causa dei tanti ostacoli che i due incontravano nel cammino verso la stanza dell'orologio poiché è lì che il guardiano voleva andare per capire dove si trovava esattamente e dopo un tempo lunghissimo come la guarigione da una ferita lacerata finalmente trovò il sistema per attivare il congegno dell'elevatore con tutte le sue forze Aidan visto che il varco non era bloccato ma solo socchiuso riuscì a forzarlo facendo leva con le sue mani ciò esplodendogli in gola urla di dolori ormai le mani grondavano sangue e sarebbe di ria breve morto dissanguato se non fosse riuscito con un movimento veloce affiondarsi con il lupo nell'antro che prese a muoversi con estrema lentezza verso la stanza dell'orologio tutto intorno vi era un lago di sangue lasciato dal guardiano approdarono finalmente alla stanza e rifasciatosi le mani con piccoli lembi di tessuto miracoloso penetrò all'interno e vide l'oceano ma questa volta era così stupefatto da non credere ai suoi occhi si trovava sul fondale del mare come era stato possibile Aidan poi subito notò uno strano ma potente e intenso alone di energia che dal corpo illuminante del faro a mo' di scudo avvolgeva e proteggeva il cilindro di pietra e dal basso tutto intorno al faro si notavano flussi lunghissimi e intermittenti di bolle di ossigeno che risalivano verso la superficie mentre era rapito da quello spettacolo vide frotte di esseri mostruosi che tentavano di portare attacchi al monolite scagliandosi contro le vetrate della stanza dell'orologio ma inutilmente poiché erano respinti dall'aura che anzi li disfaceva non appena essi si lanciavano sul faro come kamikaze erano sembianti che anzi utilizzavano il loro potere rallentato creando gigantesche onde marine che facevano sussultare i fondali e lo stesso faro in condizioni normali ciascun impatto avrebbe devastato e sconquassato una intera montagna sbriciolandola ma lo sfudo di energia era ancora forte Aidan si sentiva protetto ma cominciava a respirare con affanno evidentemente la riserva di ossigeno all'interno del faro cominciava a scarseggiare sentinello sentinello dava segni di sofferenza e si accucciò in un angolo impaurito e per non sprecare inutili energie Aidan in quel momento si rese conto che qualcosa era cambiato dentro di lui si sentiva nudo e fiacco aveva forse perso tutti i poteri donati dai creatori e sperava almeno che tale assenza fosse solo temporanea in quel momento non si sentiva in grado di tentare di risollevare le sorti dell'umanità provando ad attivare almeno una delle grandiose facoltà donategli Nel frattempo gli attacchi si susseguivano i sembianti assunte le forme delle creature marine più diverse quali gigantesche orche assassine dagli occhi neri e vuoti o immondi megalodonti dalle fauci enormi o addirittura piovere dai tentacoli viscidi e accuminati avevano provocato delle falle nello scudo di energia e si erano avvinghiati al faro colpendolo violentemente o tentando di stritolarlo sotto l'enorme pressione del loro odio Aidan era impaurito e stava diventando cianotico per la carenza di ossigeno quando invocò con urlo fragoroso di mille tuoni il divino Uluru e si inzinocchiò a terra con il capo chino il faro era ormai imprigionato da un grappolo di sembianti e tutto sembrava perso quando la barriera energetica cominciò a cambiare colore dando vita a tante piccole sfere di lava incandescente insensibili all'acqua marina che puntavano dritte verso i sembianti bruciandoli come un terribile e ignoto male divora le carni dall'interno gli abissi si colorarono di rosso sangue e ad uno ad uno gli esseri immondi guidati dall'odio dell'imperatore Sairos si disgregarono in un fragore di urla mai visto il corpo illuminante del faro si fermò l'aura di energia scomparve e il faro come se fosse stata sganciata la più grande ancora che lo tratteneva prese a risalire lentamente verso la superficie marina Aidan doveva uscire da quel tunnel oscuro privo di ossigeno quando tarponi e boccheggiante avvolse con un'incredibile ed esasperante lentezza il lupo ormai agonizzante in un pesante fardello di juta che aveva strappato dalla pedana ormai allo strenuo delle forze il guardiano si trascinò pesantemente dopo essere caduto più volte e ripartito con l'animale avvinghiato a sé guadagnò l'altro segreto sottomarino indossò la pesantissima tuta da palombaro e si gettò negli abissi del mare tenendosi con un braccio agganciato al faro mentre con l'altro teneva stretto sentinel pregando che la riserva di ossigeno delle bombole con una delle due aveva intubato il suo silenzioso e migliore amico lo avrebbe fatto riemergere vivo sì perché ora finalmente voleva vivere ogni momento della sua vita come se fosse stato l'ultimo capitolo 20 ascensione mentre saliva dalle profondità dell'oceano ripensò a tutto il tempo che aveva perso rincorrendo rimpianti piangendo su ricordi passati che non sarebbero tornati mai più a tutte le volte che non si era accorto di come avevano tentato di amarlo ma inutilmente poiché si era sempre chiuso dentro un muro di dorato isolamento si riproponeva di non incappare mai più nella solitudine e malinconia la vita lo chiamava ad una nuova rinascita e si sentiva pronto per viverla intensamente senza ritrosie e rimpianti sentinel aveva gli occhi ancora chiusi sotto la coperta ormai zuppata d'acqua che ogni tanto Aydan spostava e poi riposizionava cautamente questa volta il rischio che non ce la facesse era più forte e non ci pensò minimamente l'ascesa pareva infinita il faro risaliva maestosamente creando un gigantesco vortice liquido di schiuma dietro di sé e Aydan si aggrappava con tutte le sue forze respirando velocemente fino a strozzarsi e guardando in alto lo spettacolo della natura era meraviglioso era immerso nei neri abissi che a poco a poco diventavano blu liquido il guardiano ammirava quella costruzione aliena a cui era appeso miracolo di tecnologia di un altro mondo che ascendeva maestosa e incurante di tutto quanto la circondava elegante come la scia di una cometa affascinante come la perfetta sequenza cosmica di orione e sentì improvvisamente dentro di sé tutto l'amore dei creatori e lo straordinario ruolo che gli era stato assegnato per la salvezza non solo del piccolo ed insignificante pianeta terra ma dell'intero universo e capì che il faro era davvero dentro di lui non poteva deludere le quattro signorie dell'universo che aveva avuto il privilegio unico al mondo di intravedere nel cerchio di fuoco cosmico della sua visione e finalmente accompagnato dal fragore di mille tsunami il faro sbucò dall'oceano come un missile che schizza nel cielo dalla base sotterranea e con una grandiosa traiettoria che pareva guidata dalle mani di un'entità di un altro mondo si riposizionò nella sua posizione verticale ricoprendo la colossale voragine che si era aperta quando prima si era inabissato sulla crosta terrestre di fronte all'amato oceano di Sky e Aidan fece appena in tempo a tuffarsi in aria con un balzo giusto un momento prima dell'atterraggio dell'incredibile monolite ultraterreno quella scena appariva paradossale poiché si vede uno stranissimo palombaro schiantarsi schiena a terra vicino al faro con in braccio una coperta si alzò lentamente deponendo con dolcezza il fardello e iniziando a togliersi la visiera del pesantissimo scafandro era fatta quei due esseri erano salvi l'uomo con indosso ancora lo scafandro e il lupo inzuppato d'acqua e scarmignato in volto si sedettero l'uno vicino all'altro l'animale tentò di saltargli in collo e l'uomo ridendo si distese a terra e si lasciò leccare ben bene il viso dallo strano lupacchiotto enorme ma in quel momento docile come un cucciolotto era giunto il tramonto il cielo aveva un colore rosso sangue le nuvole assomigliavano ad un greggio di pecorelle smarrite l'isola era tornata alla tranquillità ma questa volta con spargimento di sangue di innumerevoli vite umane inermi ed innocenti a causa della strage dei sembianti assassini e dei lupi infernali era stato un giorno tremendo per l'intera isola che si era immolata per l'intera umanità ignara dello spaventoso flagello imminente c'erano morti dappertutto e Aydan unico sopravvissuto seppellì tutti i poveri resti degli isolani adornando i loro sepolcri di splendide cruci celtiche da lui intagliate ovunque li rinveniva quello fu il giorno più buio della guerra delle ere era stato solo un monito di quello che sarebbe accaduto successivamente Aydan si sentiva forte e reattivo ma mancava un ultimo tassello essenziale per affrontare l'ira del triste ricevere in dono il potere infinito dell'arcobaleno capitolo 21 ai piedi dell'arcobaleno catturerò il mio destino afferrandolo per il collo non mi dominerà Aydan si era rintanato nel faro suo rifugio e salvezza e dopo aver consumato un pasto frugale si era abbandonato ad un sonno profondissimo mentre Sentinel si era allontanato dal Neist uscendole dal varco marino segreto risalì in superficie e girovagò sull'isola poi dirigendosi nel suo luogo preferito e tanto amato per guardare le onde e respirare la salsedine che era sempre sopraggiunta forte dall'oceano a sanare e ripulire tutte le immonde sozzure lasciate dai sembianti assassini alla fine di ogni grande guerra delle ere ancora forte era l'odore di sangue dei poveri abitanti di Sky e lo spirito della morte ancora alleggiava tetro sull'isola di Smeraldo Sentinel sentiva dentro di sé una primordiale rabbia e tristezza come mai gli era capitato di provare mista a profondo stupore e ribrezzo per ciò che stava osservando la terra su cui poggiava le zampe stava mutando la vegetazione stava morendo era ormai l'alba e un olezzo si stava diffondendo nell'aria come mai era capitato di annusare quale malsano maleficio avevano diffuso i sembianti prima di essere spazzati via il lupo con la sua formidabile vista osservava attonito stormi di uccelli che dall'alto parevano suicidarsi gettandosi nell'oceano tutti insieme oppure cadevano come corpi morti sulla terra ferma stramazzando al suolo gli alberi un tempo dalle chiome di un verde intenso sembravano aver subito una funesta mutazione erano spaventosamente scarnificati e dai fusti grondavano stranissimi fiumi di linfa grigia morta il cielo era squarciato da nubi striate di rosso sangue e da lontanissimo si intravedevano lampi che si susseguivano fino a formare terribili croci rovesciate in lotta tra di loro come se orde di giganti si stessero affrontando a colpe di gigantesche mazze ferrate in un violento scontro nei cieli lasciando scie luminose ogni qual volta calavano le possenti brazza sentine sentine scappò via qualcosa di terribilmente sbagliato si stava scagliando contro la terra voleva solo informare modo suo il suo padrone e con ampie e poderose falcate corse verso il faro dirigendosi verso il gigantesco portone quando dapprima percepì il richiamo del guardiano e poi avvicinatosi a velocità sempre maggiore vide Aidan che gli faceva accenno di sbrigarsi il varco era spalancato amico fedele l'ho percepito la nostra terra amata sta morendo tutto è putrescenza e solo il faro ha conficcato le sue fondamenta fin dentro le viscere della terra dove non è ancora giunta la decadenza tutto questo non era scritto e qualcosa di maledettamente diverso si sta realizzando fai presto vieni con me andiamo subito nella stanza dell'infinito corri e insieme risalirono velocemente fino a giungere nella stanza dell'orologio le protuberanze vetrose del faro erano sferzate sempre più violentemente da gigantesche onde melmose e nere brulicanti di cadaveri di esseri umani dilaniati e divorati di creature marine mai viste prima gli enormi resti di imbarcazioni già distrutte gli ammassi di roccia terra e fango che si stavano staccando da tutta la terra adiacente una vera apocalisse ma il faro reggeva ancora saldo e fermo sotto una pioggia fittissima che si era improvvisamente scaraventata sulla terra ferma al di sotto delle nuvole hayden hayden era immobile al centro della stanza quasi in attesa di un segno che solo a lui poteva essere indirizzato quando nel pieno del caos primordiale in cui era piombata sky apparve un grandioso arcobaleno che terminava la sua meravigliosa parabola proprio di fronte al faro l'atmosfera era surreale mentre una forza oscura stava divorando la natura uno splendido arcobaleno di mastodontiche proporzioni aveva occupato la calotta del cielo sopra sky proprio dinanzi la stanza dell'infinito i suoi immensi fasci rosso arancione giallo verde blu indaco e violetto alla vista di hayden avevano assunto le sembianze di iridescenti e spropositati tunnel ed era immobile l'ora era scoccata lampi e tuoni si susseguirono in una funerea marcia la pedana posta al centro della stanza dell'infinito cominciò a vibrare pesantemente le rune in essa scolpite si sgretolarono hayden e sentinel sobbalzarono per le pesantissime detonazioni celesti flammiste al fragore delle rune polverizzatesi le gigantesche lancette dell'orologio astronomico presero a vorticare al contrario sempre più veloci e ad ogni giro completo il faro subiva un sussulto tremendamente forte tanto che sentinel si era quasi aggrappato alle gambe di hayden che per non cadere si teneva agganciato alle cateratte murarie ormai incandescenti e fumose dopo una serie di pesantissimi scricchioli la lancetta delle ore si incrociò con quella dei minuti ed entrambe si urtarono staccandosi dall'alloggiamento cadendo sul pavimento il gigantesco orologio si dissolse come liquefatto e come lava incandescente si riversò addosso ad hayden che accortosi del fiume liquido bollente si spostò spiccando un salto e afferrando sentinel il fiume di acciaio liquido bollente aveva innalzato all'estremo la temperatura della stanza dell'orologio l'aria era divenuta irrespirabile e caldissima anche perché il corpo illuminante del faro aveva iniziato a muoversi e le candele si stavano accendendo ad una ad una ad hayden non restava che fuggire al più presto districò i drappi che avvolgevano le sue povere mani strinse i pugni li riunì con violenza ricacciò un urlo vigoroso e creato un vortice di energia innanzi a due sentinel fece cegno al lupo di seguirlo e uomo e lupo penetrarono nel vortice scomparendo dalla stanza dell'orologio ritrovandosi proprio sopra la sommità del faro sospesi in aria proprio ai piedi dell'arcobaleno capitolo 22 l'inizio della fine nel destino di ogni uomo può esserci una fine del mondo fatta solo per lui si chiama disperazione i sigilli erano stati spezzati il cerchio di fuoco ancora teneva ma lo spirito potentissimo e di racondo di Zairos si era improvvisamente sprigionato nei meandri dell'universo con una spinta di energia incommensurabile i suoi frammenti si erano sparsi in tutte le galassie inondando non solamente tutte le galassie parallele ma tutti i buchi neri che stavano ingoiando tutto a velocità sostenuta invadendo i domini stellari degli altri creatori qualcosa di terribile e imprevedibile si era verificato nelle pieghe spazio-temporali enorme massa di energia oscura senza volto ma ricolma dell'odio del ribelle cominciò la sua marcia funerea dapprima disintegrando e inglobando le immense galassie ellittiche costituenti la grande muraglia di Arcadi il cieco che si dissipò nell'infinito il vortice infernale sempre più grande e veloce fece a pezzi le galassie a spirale costituenti il regno del vortice di Miguelos impotente di fronte a tanta violenza Zilius il gigante cercò di reagire amplificando il suo potere negli esterminati ammassi stellari del regno dell'anello polare ma nulla potette contro l'esplosione cosmica dei suoi regni e la vorace fame del buco nero ormai unico e di proporzioni indescrivibili al gabatti il divino era l'unico tra i creatori rimasto ancora indenne dall'estinzione poiché nell'ordine cosmico sconvolto dal gigantesco buco nero era ancora distante dalla sua rotta la prima profezia non si stava avverando come preannunciata in ogni battaglia delle ere il destino ultimo dell'universo era gravemente compromesso e il divino abbandonò il cerchio di fuoco e volò verso le sue galassie enane sferoidali era solo questione di pochissimo tempo Zairos sarebbe arrivato anche sul suo impero e lo avrebbe distrutto così decise di cambiare rotta e dirigersi verso l'ultima speranza diresse il suo spirito verso la terra come è stato possibile il sovvertimento l'ora non è ancora giunta il portale spazio-temporale non si è aperto lo spazio e il tempo sono stati violati il triste ha sconvolto l'ordine cosmico l'ultima speranza è e neist i suoi poteri erano rimasti intatti e viaggiò su una scia di fuoco sulcando le costellazioni non ancora inglobate dalla furia nera oltrepassò i confini del tempo viaggiando alla velocità del tete trasporto penetrò finalmente nell'atmosfera terrestre come un gigantesco meteorite incandescente era ormai nel cielo plumbio di Sky e lo squarciò come un fulmine con il tronco d'albero ma trovò quello che non si sarebbe mai aspettato il più grande arcobaleno mai visto in tutte le battaglie delle ere che dalle nubi si protendeva fino alla stanza dell'orologio e proprio lì impauriti ed immobili stavano un uomo che affondava le gambe in uno dei fasci iridati e vicino a un lupo che pareva completamente proteso verso il cielo Zairos aveva intuito la sua mossa e invece di dirigersi verso il suo regno per raderlo al suolo aveva fatto rotta direttamente sulla terra alla ricerca del faro l'attacco finale era iniziato capitolo 23 nelle pieghe del tempo il portale spazio temporale era stato sconvolto l'orologio astrale distrutto per la prima volta in tutte le battaglie delle ere il principe ribello era penetrato nelle pieghe del tempo modificandolo la terra era piombata in un caos primordiale e Sky era ancora una volta l'ipicentro della più cruenta guerra la resa dei conti tra i creatori e Al-Ghabad disceso al Neist circondato da un'aura iridata intonò il più bel canto del faro Neist ora sei mortale perché in te abbiamo escogitato il mistero della storia ti guardiamo di notte durante il giorno nessuno è uguale a te sai dove sono il mare e il cielo combattendo incessantemente sei il mito hai fatto appello agli dèi che sono maestri lanciando anatemi spaventosi per i marinai sei nato prima e con i tuoi fratelli a Rodi e Alessandria sei testimone di nazioni regioni uomini della loro storia sei al sicuro nel mare e nella vita umana dall'archeologia come l'alce sull'isola di Pasqua sei un monito per la nazione i tuoi occhi eterni gettano luce santuario di numeri monasteri leggende del mare e uomini naufraghi ma anche di liberazione il mare è il tuo cosmo che si scioglie e guardi il cielo il mare il tempo il faro sembrò sussultare dopo che il divino aveva recitato con una voce di una dolcezza indescrivibile e tutto parve fermarsi in quel frangente temporale e Al-Gabad postosi di fronte ad Aidan e il suo segugio si mostrò dissolvendo la spessa coltre di nube che lo circondava Aidan restò come impietrito e si lasciò prendere dal tocco soffice del divino che con il linguaggio degli umani così parlò questa volta diretto al guardiano il triste ha cambiato la mistica sequenza degli eventi l'ultima battaglia è già iniziata percepisco che i miei regni sono stati distrutti dalla morte sono giunto fino a qui stremato per donarti l'unico potere con cui potrai combattere il principe il potere dell'arcobaleno va percorri spedito l'indaco quando potrai farlo il segno arriverà io ti aspetterò lì ma dovrai essere lesto altrimenti saremo persi per sempre e senza dire null'altro il suo essere penetrò il raggio indaco del gigantesco arcobaleno e svanì al suo interno Aidan era stordito ancora per quello che stava accadendo innanzi ai suoi occhi ma non ebbe il tempo di riprendersi quando una immensa legione di sembianti dalle fattezze di unicorni neri al guenzaglio di carri guidati da cavalieri neri sbucò dal primo anello dell'arcobaleno quello rosso ma la consapevolezza della sua missione gli poteva permettere di affrontare lo scontro senza nessun timore una infinità di dardi infuocati settanti dagli archi dei sembianti cercarono di coprire Aidan ma il raggio energetico che uscì dai palmi delle mani di Aidan riuscì a schivare il colpo Sentinel diventato come una creatura di fuoco grazie all'amuleto che appeso al collo era accecante si fiondò addosso ad alcune delle belve e mentre con guizzi fulminei scansava le violente testate degli immondi cavalli alati neri e i loro corni avvelenati o le frustate dei cavalieri neri affondava i denti nei loro costati facendoli cadere e falcidiava dissolvendoli i nemici che si concentravano in lampi di fuoco che salivano verso l'alto Aidan nel frattempo aveva invocato il dono della necromanzia facendo comparire dietro di lui un immenso numero di spettri aizzandogli alla vendetta erano i cadaveri degli abitanti di Sky uccisi nell'ultima carneficina dai seguaci del ribelle poco prima essi immediatamente reagirono al comando del necromante e risorti dai sepolcri si fiondarono verso l'enorme legione di sembianti scaturendone un polverone di sangue fuoco e bagliori che esplodevano nel cielo era ancora il primo anello dell'arcobeleno era presto per cantare vittoria senza nemmeno accorgersene Aidan si ritrovò in quello arancione davanti a lui il numero indefinito c'erano delle copie esatte di Sentinel il loro sguardo era diverso però da lui erano prive di anima e subito attaccarono come avevano provato a fare in precedenza durante il loro primissimo scontro al faro Aidan non attese e attingendo al dono della velocità li annientò uno ad uno e con una destrezza inimmaginabile poiché il lupo a suo segugio non era ancora tornato ma era ancora alle prese con la legione del fascio rosso e quindi il guardiano dovette prestare un'attenzione decuplicata poiché altrimenti pensava che avrebbe ucciso il suo fidato amico che invece non c'era tra i sembianti le enormi gallerie giallo verde e blu dell'arcobaleno parevano essersi fuse a guisa di un'arena tanto era immenso lo spazio davanti a loro erano sembianti ovunque delle forme più strane ed aliene ma erano fermi quasi immobili come se aspettassero istruzioni dall'alto e si poteva percepire l'aurea di Zairos anche se fisicamente lui ancora non era lì sentinel nel frattempo aveva riguadagnato il fianco di Aydan che era immobile aspettando la prima mossa dei nemici tenendo sempre a mente le parole di Al-Gabad il guardiano decise di agire e comunicò telepaticamente con il Neist che formò e irradiò una barriera energetica che durò pochi secondi per non alterare l'atmosfera terrestre e il prodigio fu compiuto un vortice di fuoco dall'energia di un tornado li sterminò tutti Aydan era stremato si rendeva conto che non sarebbe mai riuscito a sconfiggere l'imperatore se fosse piombato dall'immenso anello violetto in quel momento il ribelle lo avrebbe massacrato e l'universo si sarebbe autodistrutto venendo ingoiato dal più grande buco nero cosmico che avrebbe ingoiato tutto compreso il creatore rinnegato nell'oscurità e oblio e in quel momento ricordò di avere ancora in dote uno dei più grandi doni di Al-Gabad che avrebbe potuto usare una sola volta e decise di utilizzarlo solo così avrebbe potuto cambiare il corso degli eventi futuri e ricevere il potere dell'arcobaleno il guardiano piegò il tempo attirò senti nel verso di sé e si tuffò nell'indaco era lì che lo attendeva il divino e volarono in un tunnel di luce in un paesaggio indescrivibile cielo e terra non avevano più significato erano come fusi finché improvvisamente approdarono in un territorio nuovo con un cielo pieno di arcobaleni che sembravano enormi strade unite tra loro che creavano colori bellissimi ed impossibili da descrivere in un prato fiorito di mille colori mentre una dolce risacca si sentiva in lontananza si ritrovarono davanti una cascata un cigno nero dal becco rosso si avvicinò davanti a loro e con un battito d'ali si tuffò nella cascata era il segnale sentinel con l'aiuto dell'amuleto che sembrava emettere una lingua di luce intermittente scovò immediatamente l'unico sentiero nascosto dalla verde radura che costeggiava la cascata Aidan lo seguì senza indugio il sentiero conduceva in una grotta molto ampia e i due restarono senza fiato gli arcobaleni in cielo riflettevano i loro colori all'interno della grotta creando forme di una bellezza indescrivibile sentinel scodinzolava ed Aidan sorrideva mano a mano che camminavano all'interno dell'antro quei colori diventavano intensi sembravano quasi fondersi con le pareti della grotta creando effetti di luce mirabolanti e giunsero davanti a un ruscelletto ma invece dell'acqua vi scorrevano raggi di luce dai colori vividi e fluidi proprio come fiumiciattoli veri improvvisamente quel fiume di luce cominciò a prendere forma una sagoma appariva e scompariva insieme al luccichio di quei colori che permeavano tutta l'area e una voce si udì da quella mistura di suoni e colori tra le pieghe del tempo mutato riceverai il dono della consapevolezza e indietro ti sarà impossibile tornare Al-Gabat ha terminato il suo percorso e si estinguerà il potere di Sairos e il suo odio verso i creatori lo ha reso molto più forte ed utilizzerà le tue debolezze per confonderti per cercare di portarti dalla sua parte ti leggerà dentro e cercherà di offrirti qualcosa che nel profondo desideri ancora tu sei l'ultimo guardiano terrestre che affronta questo destino in te è custodita una gemma nobile e preziosa la tua anima pura il tuo amore per la terra e per il nostro grandioso e leggendario sentinel che hanno reso quello che sei oggi i tuoi poteri le tue certezze non sono niente in confronto al potere dell'arcobaleno che ti permetterà di affrontare il tuo destino dopo quelle parole il suo petto si ritrovò ancora accocente e pulsante un medaglione dorato raffigurante un arcobaleno risplendente al di sopra di una vetta montuosa innevata impugnato da un'enorme mano improvvisamente un'esplosione di luce avvolse Aidan e Sentinel e un vortice di colori di una intensità incredibile lì non do i drappi che avvolgevano le mani di Aidan si dissolsero all'istante e i due poveri umani ritornarono innanzi all'ultimo varco il più temuto e scuro il violetto era giunto il momento capitolo 24 ormai era quasi interamente decorso l'anno trentesimo dall'arrivo del guardiano al faro sulla terra il cosmo e le sue lezzi stavano svanendo nell'oscurità il buco nero supermassizzo ormai dotato di natura propria stava fagocitando l'intero universo e procedeva inesorabilmente attraendo nel suo colossale mulinello intere galassie lo spirito dell'imperatore Zairos che in origine lo aveva generato accecato solo dall'odio e mosso dalla follia dopo aver sconvolto il destino ultimo si era diretto verso l'ultima creazione acedia regno dei sembianti e testa di ponte per l'attacco alla terra e al neist ed era ormai incurante del fatto che sarebbe stato ingoiato come tutti gli altri dalla sua terribile creazione se avesse trionfato il triste giunse sul pianeta accompagnato da una potentissima tempesta stellare e risvegliò tutte le creature in esso dormienti infondendole di inaudita energia e generò con la maestria di un grandioso artigiano alieno il più grande arcobaleno che si stagliava da acedia e attraversando il cosmo penetrando nell'atmosfera terrestre giungeva fino al nest che sebbene indebolito per lo sconquasso avvenuto nella stanza dell'infinito riuscì a compiere il miracolo adempiendo a quanto tramandato sin dalla prima era era appena tramontato il sole e con il fragore di una esplosione cosmica e il bagliore di una supernova il faro emanò una luce divina magnifica e maestosa verso il cielo alle profondità delle viscere della terra si produsse il più grande terremoto mai verificatosi il segnale era stato trasmesso una immensa luce sempre più potente squarciò tutti i cieli del mondo mentre il nest irradiava in cielo la leggendaria sequenza di rune infuocate frammiste alle mappe del destino i fari della terra in sequenza nell'ordine delle rune infuocate irradiate dal nest si risvegliarono al suo richiamo torre di ercole la colugna galizia spagna latitudine 43 gradi 23 primi 9 secondi longitudine 8 gradi 24 primi 24 secondi ovest hookheed hook point irlanda contea del vexford irlanda latitudine 52 gradi 7 primi nord longitudine 6 gradi 55 ovest la lanterna genova italia latitudine 44 gradi 25 primi nord latitudine 8 gradi 56 est le corduane aquitania franza latitudine 43 gradi 35 e ciascun faro schizzò un fascio di luce enorme che si congiungeva a quello successivo in uno spettacolo luminoso e stupendo fino a giungere al nest dando vita al più grande scudo mai visto in tutte le battaglie dell'ere aidan e sentinel erano ai piedi dell'arcobaleno il cielo e la terra si colorarono di un blu intenso mentre alle loro spalle il faro rispondeva con un forte boato all'arcobaleno dall'anello che era divenuto di un viola intensissimo e nauseante si percepì un fragoroso scalpitare davanti all'orga di esseri che stavano giungendo era un unicorno alato nero scarnificato e gigantesco e sopra di lui lo spirito dell'imperatore nascosto da una pesantissima e splendente armatura puro concentrato nero di odio entriso di pazzia e collera cieca dietro di loro un esercito di sembianti affamati di sangue con forme mai viste che seguivano l'imperatore a pochissima distanza da lui il medaglione di Hayden cominciò a pulsare illuminandosi il creatore rimase immobile mentre con un movimento fulmineo degli occhi appena visibili dalle fessure romboidali dell'armatura indicò al primo gruppo di sembianti di attaccare la terra ed il faro per scardinare lo scudo Hayden si voltò verso il faro da lì e pensò con affetto allo spirito di Al-Gabad che gli aveva donato il potere più grande e che ora assisteva a quello che poteva essere l'ultimo giorno della terra o l'inizio di una nuova alba Hayden con gli occhi lucidi ma determinato e pronto ad accettare il suo destino si sentiva ormai forte avendo ricevuto dal divino il dono dell'arcobaleno le sue pupille dilatate brillavano di una luce incandescente e usando la super velocità si scaraventò su quella valanga di sembianti facendoli a pezzi scaraventandoli in aria mentre saltava dal faro risucchiando e poi disintegrando con gli occhi quelle centinaia di esseri che con un enorme balzo si erano avvicinati alla scogliera nelle immediate vicinanze del Neist nello stesso momento dal fondo marino sbuccarono altri mostri marini ma Sentinel li aveva percepiti già diversi secondi prima grazie all'amuleto che gli batteva sul petto e si era affiondato buttandosi a picco dalla scogliera facendo uscire dal suo petto una fonte di calore fortissima che aveva polverizzato quegli strani esseri mai visti prima Aidan rimase senza parole alla vista di tanta potenza finalmente il lupo si era palesato non era di questo mondo nello stesso momento uno stormo di esseri alati e a due teste sbucò dall'arcobaleno ma dallo scudo energetico venivano lanciati tanti monoliti acuminati creando un anello luminoso al loro passaggio rimanevano imprigionati in quella rete magnetica e mentre si restringeva si dissolvevano nell'atmosfera tra urla lancinanti di dolore lo spirito del ribelle cominciò ad innervosirsi e gridò a tutti i sembianti di attaccare cielo e mare contemporaneamente subito migliaia e migliaia di esseri si fiondarono in mare per attaccare mentre le restanti orde erano dirette come una enorme catapulta sul faro Aidan colpì sentinel con l'energia del medaglione creando decine e decine di copie esatte del lupo trasmettendone il dono della consapevolezza nessun altro uomo doveva morire e rallentando il tempo mentre balzavano dal faro i cloni riuscirono a grande velocità a raggiungere quella schiera di sembianti che si stavano avvicinando a loro pericolosamente disorientandoli il vero sentinel e Aidan erano ancora lì mentre quella schiera di sembianti a mo' di catapulta era diretta verso di loro entrambi cominciarono a correre dalle parti opposte e contemporaneamente saltarono dalla scogliera e mentre il lupo ne azzannava decine Aidan con i palmi delle mani unite fra loro li dissolveva con il raggio luminoso che usciva dalla sorgente del potere dell'arcobaleno Zairos cavalcò l'arcobaleno cercando di colpirlo ma sentinel gli si scagliò addosso facendo da scudo ad Aidan ma la potenza di Zairos era sovrumana e l'urto fu così violento che l'animale cadde in mare era riuscito a guadagnare la riva ma respirava a fatica mentre i suoi occhi socchiusi e doloranti guardavano verso l'alto cercando di capire se quel sacrificio aveva salvato la vita al suo padrone poiché era solo quello che contava un urlo simile alla potenza di cento tuoni uscì dalla bocca di Aidan mentre lacrime di dolore gli solcavano il viso con colori stranissimi con un salto enorme si scagliò sull'armatura possente di Zairos e cominciò a colpirlo con una tale rabbia che le mani ormai gli sanguinavano di nuovo i solchi insanguinati e luminescenti dei palmi avevano ripreso a sgorgare fino a inzuppare e bruciare la possente armatura del ribelle fatta di una sostanza non terrena il creatore ormai di solo spirito e con l'armatura dissolta lo colpì più volte avvolgendolo con l'intento di stritolarlo e facendolo capitombolare vistosamente Zairos appariva gigantesco e di pura essenza divina l'armatura si era disintegrata nell'atmosfera circostante dando però vita a decine di creature mostruose infuocate che all'unisono si gettarono contro il guardiano tentando evidentemente di stritolarlo stringendolo con tentacoli accuminati mentre altre parevano cercare di penetrare nel corpo attraverso la bocca che Aidan teneva ben serrata il guardiano invocò con un urlo sovrumano la divina croce di Brigid che apparve nel cielo preannunciata da improvvisi tuoni e fulmini era infuocata e roteando all'impazzata sterminò all'istante tutti gli esseri da cui il guardiano stava tentando di divincolarsi lasciandolo indenne dalla celestiale carneficina ultraterrena Zairos allora dapprima si inabissò poco lontano dal Neist provocando un gigantesco tsunami che però inondò completamente tutta l'isola di Sky ma il santo faro restò indenne anche da tale tremendo maremoto sembrando irremovibile grazie alla potenza dello scudo iridato il triste ci avventò violentemente sul faro creando un grandioso uragano marino di classe 5 simile ad uno spaventoso buco nero provocando danni gravissimi alle case abbattendole e recando completa distruzione di tutte le strutture mobili e di alberi ed estesi inondazioni nelle zone adiacenti di oltre 6 metri ma niente il Neist restò ancora in piedi sebbene pesantissimi danni erano visibili ad occhio nudo per la prima volta in tutte le battaglie delle ere l'energia di Aidan si era esaurita rimaneva quella dell'arcobaleno mentre i sembianti rimasti si erano riuniti a cerchio per impedire che nessuno entrasse o uscisse da quell'arena infernale Aidan ferito in più parti del corpo cercò di rialzarsi facendo da scudo con il proprio corpo Sentinel ancora per terra mentre Zairos approfittandone si scaraventò sopra di lui strappandogli il medaglione dal collo e stringendolo in una bruciante presa il rinnegato era cieco di pazzia ma il medaglione si attivava solo con l'energia vitale di Aidan che con l'ultimo guizzo di energia rimastegli si scaraventò su di lui appoggiando l'arcano oggetto sull'armatura di spirito del ribelle e con voce rotta dal dolore che si stava diffondendo in tutte le sue membra supremo Zairos ti riconsegno il potere dell'arcobaleno improvvisamente tutti i colori dell'arcobaleno fuoriuscirono dal medaglione penetrando nello spirito frantumandolo mentre il corpo incandescente di Aidan agiva da conduttore creando un'energia incommensurabile che dissolse all'istante tutti i restanti sembianti l'unicorno scheletrico di Zairos sconvolto e perso senza il suo padrone dispiegò le ali e scappò veloce nell'arcobaleno sparendo nei colori che rimbalzavano in cielo Aidan riprese con sé il medaglione e si avvicinò subito a Sentinel il ferito e le sue lacrime diventarono incandescenti mentre la fonte luminosa promanante dalle mani appoggiate al costato del lupo ne guariva le ferite ancora una volta e una enorme scia nera si vide schizzare in cielo come imprigionata nelle maglie meravigliose dell'arcobaleno generato dallo stesso creatore bucò l'atmosfera terrestre risalì vertiginosamente verso lo spazio siderale e si schiantò con il pauroso buco nero supermassiccio ormai vicinissimo e mai sazio nonostante avesse appena divorato acedia il creatore fu ingoiato al suo interno l'arcobaleno esplose contro il vortice scendendosi in migliaia di fasci iridati nel cosmo e l'impatto causò un fenomeno fisico sconosciuto alle leggi della fisica il moto della morte nera si era arrestato e poi era ripreso allontanandosi dalla terra e lo scudo degli arcobaleni dei fari di tutto il mondo svanì il destino ultimo era stato ancora una volta ripristinato il ribelle era scomparso insieme all'orrendo buco nero il potere dell'arcobaleno si era manifestato e si era fuso con il suo predestinato il leggendario faro era rimasto lì idolo eterno nel meraviglioso mare di sky tutto quanto in cielo mare e terra stava decadendo riprese a vivere il terribile olezzo di morte scomparve per fare posto al profumo del mare e Aidan rivolgendosi al cielo stellato dell'isola delle nuvole così cantò con una voce dolce e melodiosa tutto vicino a me torna ad essere ricordo come quella conchiglia dalle striature dorate le alghe e la brezza marina delle prime ore del mattino la sabbia la bonaccia notturna il legno bagnato delle barche dei pescatori che osservo dalla stanza dell'infinito la mia amata vegetazione che nasce e rigogliosa cresce sugli scogli la tempesta che schiaffeggia neist e l'intrinseca malinconia che mi riempie il cuore quando essa finisce la rugiada salmastra le piscine fatate gli amati cardiodorosi o le selvagge felci e la gognata erica e due lacrimoni gli bagnarono le guance il guardiano abbassò la testa quando sentì un soffice battito di ali vicino a lui un cigno bianco gli si avvicinò dolcemente sfiorando con il becco le sue lacrime e guardandolo con occhi teneri e dolcissimi sembrava indicargli che doveva andare ancora risplendeva nel cielo un unico fascio iridato il leggendario indaco e Aidan si rivolse a Sentinel dicendo sei libero ma lo sei sempre stato spero di rivederti un giorno leggendario e solitario lupacchiotto e Sentinel gli si fiondò addosso leccandolo sulle guance sugli occhi scodinzolando all'impazzata girandogli intorno velocissimo e facendo dei salti di gioia indescrivibili corse verso il suo amato rifugio segreto naturale nei dintorni del suo faro che avrebbe continuato a proteggere per sempre lì dove avrebbe atteso fino all'ultimo dei suoi giorni senza mai scoraggiarsi il suo padrone il suo Aidan tornare un giorno o l'altro prima di varcare il ponte dell'arcobaleno con un guizzo di energia Aidan si allontanò aggrappato con tutto se stesso al meraviglioso cigno era proprio lei trasfigurata la sua amata Deiran unico amore della sua vita volarono nell'indaco splendente nel regno fatato e rifugio di Al-Gabad mentre lo spudo energetico del Neist si era dissolto il raggio colossale scomparì e con esso l'ultimo dei custodi del faro dell'isola delle nuvole un nuovo guardiano era nato tra le stelle amico lettore grazie per aver acquistato queste 26.980 parole la cui prima è stata scritta da mani grondanti sudore con una matita tremolante su un vecchio diario di scuola elementare stropicciato il 4 di giugno del 2019 possa tu sognare insieme a noi immergendoti puro e libero nell'immenso oceano di Sky con gli occhi blu di Aidan e lo spirito indomito e guerriero di Sentinel e pagina dopo pagina possa sentire il profumo di salsedine marina misto ad alone di leggenda come lo abbiamo provato noi non fermarti mai anche quando sei esausto anche quando ti diranno che non potrai mai farcela o non ti ringrazieranno per avercela fatta tu sai che ci sei non dimenticarlo mai Marco e Paolo